ciao alessandro ciao fa caldissimo oggi eh sì da dove arrivi da napoli fa più caldo a napoli a milano e sai direi più milano guarda che sta cosa che milano più calda di napoli ancora abbiamo l'aria che non si muove manca il mare ma in realtà oggi c'è un po di vento quindi potrebbe essere molto peggio caro alessandro è difficile difficile vabbè napoli c'è il mare che tempera quindi napoli sono tante cose che temperano e la puntata di oggi per te la prima volta davanti a un microfono di un podcast sì e nel tuo in questo caso sono veramente onorato che lo sia con noi perché la tua il tuo apporto nel mondo del web è un apporto veramente veramente ricercato e a tratti anche misterioso te lo te lo confesso e io sono affascinatissimo dal mistero se devo essere sincero quando leggo i tuoi testi bellissimi che si trovano su perché riviste lavori guarda lavoro con l'indiscreto con singola con siamo mine con rolling stone da pochissimo e anche con cobo scritto molti pezzi lunghi saggi anche per loro e poi ho lavorato precedentemente con il tascabile quindi diciamo roba molto alta per la quale io personalmente parlo per me non ho spesso il bagaglio culturale per comprendere al 100 per cento e soprattutto nei tuoi libri questo questa carenza salta fuori in maniera drammatica però secondo me il bello anche quello cioè quello che quando persone così profonde così così erudite vengono a contatto con persone come noi che non siamo né voglio dire i bobo vieri cassano e che un altro ventola ecco non siamo né loro che mi sta simpaticissimi però un felino di più dal punto di vista della dell'erudizione però non siamo neanche edoardo camurri alessandro mazzi e di meno un altro non so adriano adriano il colani esatto adriano il colani che è citato io lo stavo tenendo proprio per il posto d'onore in realtà perché il motivo per cui sei qui adriano il colani un giorno mi ha scritto guarda di un giorno più volte ha insistito affinché tornissi qui quindi anche un vedi queste cose se le tiene perché mi ha detto solo una volta e basta allora io a volte tendo esagerare sono milanese sono un marchettaro e in montagna non esageravi cioè ogni monte ha quello lì il cervino quello lì errore è il pizzo la terra promessa ho la stessa sindrome di di no di pallini di fellini che si diceva che lui quando parlava con le persone non diceva mai la verità cioè non è che dici fellini mente mente e basta cioè immagina fa sorgere l'immaginazione lì sul momento sì non anche anche ho altri anche punti di riferimento ma non lo faccio apposta cioè è un modo di approcciare la vita che mi piace solo quando utilizzo linguaggio condirla di aggiunte di bellezza per renderla quasi un'opera anche mia un po d'arte ma ci sono delle immagini che vogliono sorgere quando si è completamente spontaneo in questo modo no quindi è bene lasciarle venire sono d'accordo e anche se poi i tuoi amici ti sputtanano voglio spezzare una lancia a tuo favore in montagna una una cavolata è stata quella che ci sono gli ometti hai presente gli ometti sono queste pile di sassi che servono per vedere la traccia quando c'è la neve e lui fa vedi questi zen che creano questi altarini no sono gli ometti sì allora in realtà nelle spiagge delle canarie ma ovunque oramai a bali non ne parliamo li fanno un po e fanno mettono i sassi uno sopra l'altro sì ma le ricordo a formentera c'era proprio una festa anche a forte ventura ma sai io mi ricordo che stavo cercando di ricordarmi quali erano le due tutte due io mi ricordo che quando sono stato in islanda pure avevano questa abitudine di metterli è diventato un problema per i turisti non solo per i turisti perché la gente del luogo diceva vi prego smettetela perché a parte che si disturba diciamo il paesaggio ma poi si disturba anche il popolo nascosto quindi e lì ci tengono molto a queste cose anche se all'inizio non te lo fanno vedere però è una terra incantata e quindi ci tengono che le persone non smuovano perché altrimenti non è un casino cioè c'è proprio il problema di alcune avevo letto alcune tipo lucertole che muoiono perché non hanno più un luogo dove andare si vivono in mezzo a questi sassi qui e quindi questi coglioni zen che cercano di fare i fricchettoni mettendo un sasso sopra l'altro stanno facendo per dire amo la natura stai ammazzando la natura sembra quella cosa di maurizio crozza non portare un sasso via dalla toscana altrimenti la toscana non ci sarà più sarà distribuita in tutto il mondo e quindi non è vero anche la sabbia fanno anche queste cose prendono la sabbia la portano via tipo budelli spargi in sardegna che era una spiaggia rosa è diventata bianca perché l'hanno presa tutta adesso pian piano sta tornando in quel caso lì invece proprio non lo sapevo l'ammetto lui è più esperto di me di montagna e si fa da mo per indicare i sentieri poi lui sostiene che lo facciano per la neve ma secondo me no perché sono troppo bassi per essere per la neve poi non conosco il luogo però forse sono diventati anche un po delle dimore per qualche spirito no magari qualche volta può succedere secondo me sì secondo me di solito insegna via anche queste piccole case che si mettono di fianco ricordano un po quelle le statue che i giapponesi mettono lungo la strada no dove dimorano alcuni cami del sentiero ma caspita non c'evovo non c'evovo ho avuto questa lettura potrebbe essere tu dici un luogo dove energie sottili potrebbero aggregarsi dipende magari diciamo la forma prosaica è quella di dire no sono dei cumuli che servono per segnare il sentiero però magari qualcuno chi lo sa beh se ci pensi sono sempre in punti strategici privilegiati perché sono un po come i campanili no cioè sono fatti in modo tale che tu da un dosso vedi quello successivo quindi già lì c'è un addensarsi no e in più e in più cioè ricevono così tanti sguardi così tanto desiderio no da chi perde il il sentiero che ovviamente si caricano si chiamano anche ometti quindi hanno comunque sia una valenza l'immagine della parola che te lo dice sì esatto ometti i folletti cioè quella roba lì no no quindi bello ecco vedi pensavo con questo sguardo fare una gita è tutt'altra roba sai chi dovrebbe conoscere lui il ragazzo che lavorava la biblioteca esoterica di milano la libreria esoterica di milano ah dagliere palmieri lo conosci ci siamo visti online cioè non ci siamo mai incontrati di persona però si lo seguo segui sui lavori ci conosciamo. È un grande, ma quindi tu pensi che qual è secondo te il modo giusto per percepire delle essenze, delle esistenze, delle cose che con lo stato di veglia banale non potremmo vedere, nei boschi, nella natura soprattutto, o anche a Milano, anche in Porta Romana, perché secondo me anche lì. Ma sai, direi la prima cosa da fare è evitare di andarci con uno scopo, questa è proprio la prima cosa, perché di solito le persone vanno lì, dicono voglio andarci per fare un giro, voglio andarci per, non lo so, fare le storie, questi fatti qua. Eccomi presenti. In realtà, sai, non ho proprio quella cosa di dire adesso sono andato da qualche parte, prendo Instagram e faccio le cose, capi? Quindi già quello, già è un modo per approcciarsi con il luogo e cominciare a vederne la vita, essenzialmente, il modo in cui si esprime, come la luce batte su alcuni alberi, come alcuni animali, se si vogliono mostrare, ovviamente, si comportano con il resto del territorio, come attraversano la zona. E già questo di per sé è un modo di entrare in una contemplazione, quando si viaggia. E da lì poi, pian piano, poi a seconda della sensibilità di ognuno, perché c'è chi magari ha bisogno di più tempo, c'è chi invece riesce a vivere subito queste cose, magari non succede subito quando ci vai, magari ha bisogno di passare alcune notti lì. Per esempio, moltissimi veggenti dell'antichità, prendete per esempio Giacobbe, ha avuto bisogno di dormire una notte nel luogo, nella casa divina, Petel, no? E soltanto lì gli è apparsa poi la scala angelica che ha portato in alto. Quindi ci sono... bisogna aspettare un po' qualche volta, però l'importante è andare così, senza nessuna intenzione, solo perché si è guidati. Per me la puntata potrebbe finire qui. No, non sto scherzando, perché hai detto una cosa che mi suona dentro tantissimo. Ma proprio come approccio alla vita, cioè senza preconcetti, ma proprio aperti a ricevere, no? Cioè disponibili a ricevere senza... Ma sai, questa cosa mi fa ricordare, no? Nel 2015 io ho vissuto cinque mesi in Islanda, per questo poi prima ricordavo questa cosa. Ed è stato essenzialmente un eremitaggio non voluto, perché non avrei mai immaginato fino a qualche... Perché ti hanno incarcerato. No, ma sai, era... il 2014 è stato un po' un anno di passaggio, sono cominciate a sorgere particolari visioni, sono cominciate a sorgere particolari, diciamo anche trasformazioni e rimembranze, che poi hanno portato pian piano la necessità di dover entrare più in un... anzi no, di dover lasciare la zona, diciamo, la casa, no? E di dover andare in un viaggio senza... avventuroso, senza... senza aspettative, senza nessuna... senza nessuna meta. Una notte, mi ricordo che in sogno, questo circa un mese... no, un mese, un anno prima di partire, io sono partito ad agosto, quindi bene o male l'agosto dell'anno prima, vedi delle radure, delle radure che non avevo mai visto prima, perché prima, diciamo, l'Islanda non la conoscevo. E quando poi... Ma dove le hai viste queste radure? Cioè, mentre meditavi? In sogno, in sogno, proprio. Allora, potrebbero anche apparire durante la meditazione, però poi dipende, sai, dalla veggenza di ognuno. Ci sono alcuni che magari sono più predisposti nel sogno e magari altri che invece lo riescono a vedere più nel momento, che magari sono persone più creative, anche più artistiche. Queste radure non le avevo mai viste, però poi quando sono andato a cercare, perché ovviamente volevo sapere dove si trovavano, ad un certo punto ho trovato un'immagine di queste steppe e ho subito riconosciuto, eccole qui, sono le radure che ho visto. Ho visto anche il paese qual'era, era l'Islanda, e subito, sai, è scattato qualcosa. È una sensazione che... Una specie di predestinazione, chiamiamola così. Dover andare lì, che era una cosa che non era mai successa prima. Però poi, diciamo, pian piano si è ripresentata in altre volte. E la cosa interessante è che mentre sono stato... Mentre stavo lì, ho incontrato altre persone che pure sono state guidate allo stesso modo là. Quindi... Si può dire in che zona... Cioè, là in Islanda, dice? No, in Islanda. Una parte specifica dell'Islanda, no? No, no. In Islanda in Toto. Sì, no. Io ho vissuto a Reykjavik per praticamente tutti i mesi che sono stato là, che è la capitale. Poi certo, è lì che ho incontrato le persone, però loro, voglio dire, anche noi facevamo dei giri anche per tutta l'isola. Ma hai incontrato qualcuno che come te ha avuto un richiamo così... Sì, 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 sì. Cioè, così forte e profondo? Perché, sai, si dice, ho avuto un richiamo dell'Islanda. Sì, perché ho visto su Instagram la gente che fa le foto agli acciai, no? No, no, proprio un richiamo... Esote... Cioè, quasi... Visionario, sì. Che non sapevano neanche loro come mai, però erano stati chiamati lì, per esempio... Può sembrare, diciamo, un po' strano, però... Ad alcuni era apparso in sogno un elfo che gli diceva di andare in Islanda. Una donna, me la ricordo proprio bene questa, giapponese-americana, di entrambe... Giapponese che vive in America. Lei mi raccontò che era stata proprio guidata da una figura che le sembrava essere una specie di Odino, però non... Diciamo, ha avuto un po' di problemi di conoscere, comunque un uomo barbuto, che le ha detto di andare proprio lì. Ok. Quindi... Le richiami anche con delle deità o comunque delle presenze, delle... E poi quando vai in Islanda, cioè... Lì incontri tutto. Questa è... Hai percepito una... Una qualità diversa, un... Sì. Beh, l'erimitaggio è stato... È stato molto forte. Tu immagina durante queste notti, perché poi là c'è un ciclo giorno-notte diverso, durante queste notti invernali dove hai soltanto tre ore di sole durante tutta la giornata, massimo quattro ore. Soprattutto quando hai una predisposizione veggente, no? Con diverse visioni che sono già iniziate ad apparire l'anno prima, puoi incontrare direttamente anche delle deità oppure percepire, essere chiamato direttamente da delle deità del luogo. Quindi quello assolutamente succede. E ti dirò... Cioè, facilita. Questa notte continua, può essere propedeutica alla percezione di presenze... Ma infatti tutta l'area, diciamo, scandinava è anche un po' quella miteleuropea-germanica. Che poi loro hanno ereditato i famosi miti di Wotan, Loki, li hanno ereditati dall'Islanda. Sono famosi per te, nel senso che io non li conosco. No, ma sono famosi perché... Voi li conoscete? No. Beh, Loki è... Loki è quello di... Odino, di... Odino, di... Odino, di... Odino. Sturluson, con L'Edda, dove si narrano, no? Tutte queste... Praticamente si narrano tutte le... Le vicende di Odino e, diciamo, tutto l'aspetto mitologico nordico che magari tutti conoscono come Ligdrasil, no? L'albero dei nuovi mondi vengono da lì. E... No, dicevo questa cosa perché le notti e in particolare le... le folate di vento tempestose che avvengono soprattutto nella... nella sfera invernale. La foresta oppure anche la... la steppe nevata richiamano questo tipo di presenze. Pure se magari uno non... Sai, c'è... c'è una cosa che mi sta venendo in mente adesso che è la stessa cosa che diceva anche Martin Heidegger quando stava nella baita, no? Della foresta nera. Lui... C'è un piccolo scritto che ha fatto che si chiama Perché restiamo in provincia? Poco noto rispetto magari al resto della produzione, però. Lui essenzialmente viveva la stessa cosa. Si mette... si siedeva su questa... in questa baita aveva la finestra di fronte alla scrivania e racconta quando il vento ulula e la tempesta dirompe è il momento della filosofia. Ora, in quel caso... in quel caso immagino un po' la stessa cosa. Avevo questa finestra all'ultimo piano di questo palazzo vecchissimo fatto praticamente solo di legno e pietra. Fuori c'erano gli uragani che buttavano e questo albero che si agitava nella notte e che sembrava proprio, sai, una presenza che stava lì ad agitarsi anche lei. e poi, certo, ci sono anche i richiami di Odino, ci sono anche i richiami di Loki, soprattutto in sogno, perché Loki era il... sai, quella non è una divinità, nel senso, noi siamo abituati, ecco un po' come dicevi anche prima, a dire... ti viene subito l'immagine dell'Avenger, no? Della Marvel. Loki in realtà è la quintessenza del fuoco veggente, quindi essenzialmente è una forma che assume la stessa capacità veggente del visionario di poter divenire ed essere qualunque cosa e di poter generare tante immagini diverse, vivere anche tante immagini diverse. E mi ricordo una notte in sogno, fui proprio chiamato da lui, sentì proprio, sai, questa voce che diceva proprio chi sei? Loki. Proprio così. E lì poi si continua ovviamente a... sono continuate diverse visioni, però assolutamente sì. Questo tipo di rapporti non ti fanno paura? No, lo dico perché... Allora, è particolare perché qualche volta... Allora, da piccolo sì, mi facevano più paura, questo è vero. Perché da piccolo comunque non sapevi che cosa succedeva. È una cosa molto comune in realtà, succede a molti bambini, di, sai, immaginare delle figure nel buio, no? Queste cose qui, oppure di essere particolarmente impressionabili. Però col tempo è diventato qualcosa di totalmente spontaneo. Quindi, diciamo adesso non più, cioè non è più una questione di paura, è più che altro una questione di ok, chi siete? Relazioniamoci. E poi, prima, per esempio, non disegnavo spesso come adesso, adesso invece si disegna, oppure si poeta, oppure si scrive. Quindi ci sono dei modi per poter aiutare queste presenze a imprimersi in un'opera. Ok, quindi attraverso. Ah, bello questo. Beh, quello credo che accada anche a me, ma in maniera molto più prosaica, no? Devo dire, oggi mi sono svegliato, ho portato il mio figlio al campus estivo e poi avevo da scrivere tutto il giorno. Io mi occupo a un progetto di formazione che si chiama Money Surfers per chi voleva sapere e conoscere. MoneySurfers.com che è anche il progetto che finanzia il Bazzar Atomico e lo produce. E devo scrivere dei testi. io ho scritto due libri praticamente con il mio socio e ogni volta ma sarà capitato anche a te quello che dicevi tu ogni volta che finisco rileggo dico io l'ho scritto veramente io sta roba qui cioè non da un lato proprio una sensazione di enorme gratificazione perché credo che sia proprio all'interno della chimica del corpo produci degli ormoni quando finisci un lavoro che sono palesemente evidenti ma dall'altro lo stupore più grosso è vedere che il risultato è superiore a quello che avresti potuto immaginare se riesce a entrare in uno stato che oramai qualsiasi come dire formatore della crescita personale definisce di flow quindi quello stato di sospensione in cui veramente anche in termini mistici se ne parla spesso dove c'è l'assenza canalizzazione anche dove c'è l'assenza dell'io cioè io delle volte quando è che lo vedo quando io parto con un'idea e finisco per scrivere tutt'altro e mi piace molto di più quel tutt'altro rispetto a lui ed è evidente lo dico ai più scettici noi ne abbiamo qua uno perché adesso non parla più perché quando sente parlare di spiriti lui poi smette di parlare tutta la puntata che è Mario che ha una idiosincrasia però noi no quindi no no idiosincrasia semplicemente mi basta la realtà che si vede mi sembra talmente bella che non ho bisogno ma lui la vede cioè non è che non la vede certo però c'è tutto qualcosa di aggiunto sopra sì allora devo dire che allora stavo dicendo un'altra cosa beh dopo torniamo a lui quella cosa lì è interessante perché penso sia la stessa tecnica la stessa meccanica che accade no è simile è simile sai c'era una cosa che diceva usava dire Joseph Campbell no quindi lui diceva ok prendetevi un posto o un momento che non è un posto e non è un momento perché deve essere al di fuori di qualsiasi cosa che esiste no non dovete più avere idea di che ora sia non dovete più avere idea di che cosa sta succedendo lì fuori e concentratevi su questa scintilla o su questa fiamma è difficile anche diciamo nominarla direttamente per questo l'immagine rende meglio che lui chiamava bliss in inglese tradotto si potrebbe chiamare come sì direi una fiamma rende bene l'idea sì lui diceva essenzialmente si riferiva a questo cioè lasciate che tutto quanto emerga da sé che anche poi diciamo l'assunto che sta alla base dello Zocen anche per esempio cioè non c'è bisogno per forza di forzare la mano più che altro più che altro aiutare attraverso una tecnica attraverso un metodo un mezzo particolare aiutare ciò che vuole sorgere che vuole venire fuori che vuole compiersi attraverso di noi e questa è la diciamo è l'origine proprio di quello che noi chiamiamo di quella che noi chiamiamo arte perché voglio dire l'arte non nasce diciamo perché qualcuno ha desiderato fare qualcosa ma nasce perché c'era un bisogno di portare fuori delle forze delle immagini che altrimenti non potevano venire fuori e per esempio una delle immagini che più ho ripreso anche nei miei scritti e che è particolarmente forte per la sua presenza non solo lui qui c'è un omaggio che Alessandro mi ha fatto che è una cosa molto più bella di un libro perché come possiamo definirlo questo è essenzialmente un un'isola voglio dire questo è il libretto è un libretto edito dalle edizioni volatili curate da Giorgio Maria Cornelio e Giuditta Chiara Luce Giuditta Chiara Luce è l'illustratrice Giorgio Maria è il redattore che si occupa del tutto il lavoro di editing e queste sono delle le possiamo considerare delle isole ma le possiamo anche chiamare piume sono dei piccoli libelli che vanno che sono volatili perché vengono donati non hanno non hanno la pretesa di voler essere venduti oppure di voler essere rintracciabili e così come il Crisomallo ce ne sono tantissimi altri che fanno parte poi tutta la collana delle edizioni volatili già edizioni volatili è bellissima perché in effetti è molto volatile perché è leggero poi anche delle pagine fatte di lucido vedete che si può vedere attraverso quasi tra l'altro questo rosso ricorda un po' anche le cornici di alcuni di alcuni tank di alcune immagini sacre no? assolutamente quel rosso vermiglio purpurio anche no assolutamente ci hanno scritto moltissime persone molto valide i testi si possono trovare anche online disponibili sia su pubblicati su Nazione Indiana e sull'Indiscreto però voglio dire se uno volesse chiedere agli autori direttamente per esempio ci sono Francesca Matteoni c'è Claudio Culesco c'è Andrea Bartolomeo Caffarella c'è Tommaso Lisa ci sono tutti questi grandi autori che magari hanno già pubblicato oppure sono meno noti ma che stanno tutti quanti stiamo tutti quanti in realtà portando fuori delle visioni che servono per aiutarci queste sono chiamate delle anche delle favole per il dopo diluvio così le definisce anche Giorgio Maria perché sono delle visioni che servono a incamminarsi verso una direzione ad aiutare ciò che succederà dopo o meglio aiutarci a camminare oltre quell'epoca che stiamo vivendo e che Calasso ha chiamato l'innominabile attuale quello l'ho letto sì quello l'ho letto tra l'altro sotto l'ombrellone in Grecia proprio che bello al massimo dello sciallo borghese tra l'altro e lo leggevo l'anno scorso no due anni fa l'ho letto comunque sì l'innominabile attuale l'ultimo diciamo libro che ha scritto in vita Calasso perché poi ne ha scritto forse due postumi o robe del genere io ce li ho tutti gli ultimi è scritto uno che è un mix dove c'è una roba sua autobiografica della di quando era ragazzo era Bobby se non sbaglio sì no 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 Bobby è su il suo diciamo ah ok era un altro il fondatore di Adelphi ricordo che dopo è uscito ne è uscito uno sul sì quello là sulla civiltà mesopotamica anche stiamo parlando ovviamente del ex ahimè direttore di Adelphi che è una casa editrice che ovviamente amiamo tantissimo tutti quanti il il tema appunto che stavamo affrontando prima con lui che diciamo è quello un po' più illuminista del trio a me piace molto indagarlo perché quando ci si affaccia al mondo della dell'invisibile si creano queste due fazioni no c'è chi dice ok vabbè questo si è preso qualcosa oppure ah vabbè no caspita che beato lui che vede e sente queste cose io non sento una mazza ecco no le riassumo perché sono un po' quelle le cose e quando io ho risposto al pucca Mario lui ho detto beh lui le vede le cose perché non è lui dice io voglio vedere mi interessa solo quello che vedo il problema è che lui anche lui interessa solo quello che vede è un diverso vedere ma non è migliore o peggiore è che è legato al soggetto cioè è per quello che non ci può essere una cosa oggettiva perché tu non sai come si sta dentro questo scatolotto di ossa e carne e tu non lo sai come si sente il solipsismo però ci sono se un'esperienza non è condivisibile non è misurabile cioè se è solo dentro di te devi anche quali sono le quali sono le esperienze che non sono dentro di te sono tutte solo dentro di te ma facciamo della filosofia cioè questa bottiglia ma anzi bello perché questa bottiglia la vedi anche tu però ma magari una persona che viene dalla che ne so dall'amazzonia non sa neanche che è una bottiglia ma la vede ma la vede ma certo la vede hai detto niente ma dipende come la vede però tu non lo sai come la vedo io come la vedi tu io la vedo però magari la vediamo diversa non lo possiamo sapere e soprattutto il nostro la reazione mentale a quella bottiglia è per forza di cose sempre diversa e comunque la soggettività è importante sì mi viene in mente quando siamo andati a quel tempio pura pura teatampool a Bali che c'era quella lì che ha avuto un mancamento perché percepiva delle energie queste cioè io a me va benissimo che tu percepisci queste energie però quelle sono le energie che io percepisco quando vado all'IMAX di Londra perché ci ho associato delle cose io però io so benissimo che lì dentro non c'è nulla di oggettivo se io prendo quella tizia là che è svenuta pura teatampool e la porto all'IMAX di Londra non posso non posso pensare che lei percepisca nulla cioè se io la prendo se io prendo una persona bendata e la porto al pura teatampool e gli tolgo le bende e lei non sa dove si trova perché ho capito cioè è una cosa che è solo dentro di noi il portato sotto di noi che dici che dice Alessandro direi finora siamo rimasti solo a livello della percezione però ecco il punto eh beh chiaro ci sono altri modi di includere la percezione in una sensibilità anche una percezione se vogliamo un po' più vasta che non è legata alla materia sensibile però è legata anche per esempio a quello che provi nel momento in cui hai un quadro di fronte e tu inizi a sentire eh inizi a vedere inizi a vivere tutta l'immagine del quadro ehm essenzialmente come se fosse un mondo a sé stante e lì diciamo stai continuando a percepire però lo stai percependo in una maniera un po' più profonda che non prende ehm in relazione questa realtà particolare ma sta prendendo in relazione la possibilità dell'immagine di potersi realizzare attraverso la tua visione perché l'immagine è un po' la differenza sai che per riprendere il fatto del tempio che dicevi è un po' la differenza che di solito si affibia alla famosa alla via più rituale per esempio la famosa via della mano destra è la via più diciamo visionaria che viene anche considerata più caotica a torto della via della mano sinistra di solito si usava adesso non penso che ci siano ancora persone forse sì che fanno questo tipo di distinzione però essenzialmente il motivo per cui ci sono delle pratiche o dei modi di vivere il mondo che lo riprendono all'interno di uno spazio di un tempo di un'immaginazione definita che noi oggi diciamo perché siamo nella nostra civiltà perché abbiamo tutta una storia della coscienza dietro che ci ha portati fino ad oggi riusciamo a riportare a questo tipo di percezione però nel momento in cui non lo so si va in un'altra civiltà oppure si va in un'altra comunità quelli che noi chiamiamo sciamani o quelli che noi chiamiamo non lo so sacerdoti ok o quelli che noi chiamiamo maghi ti diranno sì quello che dice è vero però questo tipo di percezione che tu senti qui la vivo anche io e come la vivo io la vivono altre persone quando le fai partecipare perché non è diciamo soltanto una cosa che riguarda l'unica il singolo e diventa poi una diciamo una sensibilità condivisa e lì ecco si ci si apre pian piano invece di restare concentrati su questa che comunque continua ad esistere si resta concentrati su un altro modo è un po' come quando durante per esempio alcuni riti sciamanici gli antropologi facevano le foto per fare le ricerche e gli appariva sulla foto gli apparivano delle strisce di luce quando poi le facevano vedere gli sciamani gli sciamani gli dicevano ah sì sì queste sono le luci che vediamo anche noi allora lì ovviamente l'antropologo diceva in che senso vedete anche voi e gli sciamani dicevano eh sì queste sono esattamente perché poi ogni luce aveva era uno spirito una divinità particolare che interveniva queste sono esattamente le luci che vediamo anche noi e per noi si intendono tutti quelli che partecipano alla seduta perché poi non ci partecipano soltanto gli sciamani ci partecipano un po' tutta la comunità assieme mentre si sta vivendo si sta svolgendo quel rito quella cerimonia e loro poi è bellissimo perché loro dicevano la tua telecamera deve avere una grande visione per poter prendere queste cose quindi dicevano un po' queste cose ma in effetti se ci pensate la tecnologia ha un po' assorbito tutta questa capacità man mano che è diventata sempre più chiamiamola pervasiva eh pervasiva bravo è proprio il termine adatto più pervasiva come un travaso tutte queste capacità sono passate attraverso i vari dispositivi infatti molte persone oggi per esempio dicono non riesco più a immaginare niente perché tanto mi vedo film a non finire tutto il giorno no? e in effetti si potrebbe dire anche che oggi abbiamo una crisi dell'immaginazione lo si vede proprio nel modo in cui ci relazioniamo con letteralmente tutta la realtà non solo perché l'abbiamo riempita di rappresentazioni su rappresentazioni tipo i video di tiktok no? oppure ma anche perché col tempo ci siamo chiusi all'interno degli spazi urbani oppure ci siamo chiusi all'interno di dei costrutti che anche questi sono emersi diciamo con il tempo e così facendo la nostra immaginazione ha cominciato a girare un po' in tondo no? se noi pian piano voglio dire oppure se noi iniziamo a dare ascolto a diversi modi come per esempio facciamo più attenzione ai sogni facciamo più attenzione anche alle opere d'arte in effetti ecco l'opera d'arte è un modo che ha il visionario per mostrare quello che vedi anche agli altri essenzialmente nasce per quel motivo lì è vero quando prima dicevi con la fase bellissima in cui tu dici che è nell'atto di guardare l'opera che l'opera si attiva e ha senso di esistere e si crea uno scambio ma è solo in base allo sguardo di chi la guarda mi ricorda il principio di indeterminazione sì o come ma se un albero è caduto nella foresta e non c'è nessuno che ha sentito il rumore cioè è veramente caduto beh sì ci sono gli altri alberi infatti infatti questa domanda mi ha sempre lasciato un po' no ma sai quella cosa che dicevi il principio di indeterminazione sì però fino a un certo punto perché siamo ancora ad un livello iniziale poi quando è che poi inizia il balzo pian piano oppure tutto in una volta dipende poi quando da questa iniziale percezione che noi possiamo considerare soggettiva ci rendiamo conto che invece ci sono proprio delle delle presenze oppure delle immagini che non siamo noi a controllare ma che si relazionano con noi autonomamente wow e lì diciamo molto allora è molto facile per esempio per la persona di oggi è molto facile ricominciare a percepire queste presenze perché non solo per il momento particolare che ci troviamo il famoso innominabile attuale che cos'è è essenzialmente un varco dove non c'è più nessuna direzione o nessuna nessuno spazio-tempo particolare nessuna cosmologia di riferimento ed è per questo motivo che è impossibile dare una definizione è difficile pure definirlo un momento perché è proprio qualcosa che si staglia al di fuori di qualsiasi riferimento temporale però anche per questo motivo proprio per questo motivo è possibile trovare un'enorme creatività in atto è possibile pian piano scoprire anche nelle opere di altri artisti a me per esempio è capitato seguire alcuni artisti tipo Arton Mackenda che è una ragazza irlandese che è particolarmente ispirata in questo senso su Instagram e non soltanto che vivono direttamente queste cose e le offrono agli altri e questo è essenzialmente il diciamo il dono alla possibilità di oggi perché se noi per esempio dovessimo vivere una cosmologia più racchiusa la nostra immaginazione cercherebbe di ripetere soltanto le immagini che quella cosmologia di riferimento ci sta donando allora nell'epoca più cristiana per esempio tipo dalla tarda antichità fino al rinascimento circa tutta l'immaginazione era mediata dalla presenza del Cristo ok quando poi questa è una cosa interessante che dice un famoso filosofo che si chiama Peter Sloterdijk quando poi ad un certo punto la cosmologia rinascimentale esplode perché a furia di sai riempirla di teologia riempirla di definizioni logiche a furia di ridurre la forma non la forma la presenza divina in una forma e poi in un concetto essenzialmente è un po' come se la si elaborasse all'infinito e quindi alla fine non regge più esplode sotto il suo stesso peso che poi è il peso che noi le diamo attraverso la nostra la nostra la nostra pippe mentale esatto da quel momento in poi è iniziata tutta un'epoca in cui essenzialmente non c'era più una cosmologia condivisa e quindi inizia l'epoca dei pirati inizia l'epoca delle grandi esplorazioni marittime ognuno cerca e trova determinate terre inesplorate noi essenzialmente ci troviamo un po' in una situazione simile perché soprattutto dopo il novecento con tutto il postmoderno con tutto il decostruzionismo tutte queste cose qua con la morte di dio soprattutto ci troviamo in questa situazione simile perché siamo letteralmente aperti a qualsiasi influenza allora lì il modo di poter percepire la realtà in un modo particolare questa è anche una cosa diciamo che molti è un problema se vogliamo che molti divulgatori della scienza per esempio hanno notato non è più possibile dire questa è la verità assoluta perché le persone stanno cercando altre vie di vivere il mondo ora quando questo succede vuol dire che una cosmologia di riferimento è in crisi è crollata e c'è un bisogno nell'aria diciamo condiviso di recuperare la possibilità di immaginare nuove cosmologie quello è il tu ne parli anche quando racconti il lancio di Falcon Heavy no? tu dici lì forse potrebbe essere un momento un'epifania si è andato a scavare proprio in fondo perché mi ricordo sembra improvvisato il bazar atomico ma io studio no a parte mi è piaciuto molto quell'articolo non so se lo lo abbiuri o meno perché è vecchio beh allora diciamo lo abbiuro soltanto per la presenza di Elon Musk e tutte queste cose qua che non piace più a nessuno a me continua a piacere certo non è perfetto non è perfetto è in una fase decadente complicato come persona no però in effetti quel lancio in effetti è stato un momento particolare lì eri molto entusiasta su Elon Musk sì 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 no ma non su Elon Musk in realtà ero entusiasta sul lancio sul lancio perché è la possibilità di riuscire a immaginare nuovi mondi quindi nuove vette ovviamente sempre in maniera diciamo secolare chiamiamola così cioè in questa realtà in questo mondo nel mondo che percepiamo qui però voglio dire è una possibilità perché uno dei problemi che l'epoca moderna ha lasciato è stato quello di dire abbiamo esplorato tutto non ci sono più nuovi orizzonti quindi l'unico orizzonte diciamo che è rimasto sarebbe teoricamente lo spazio dico sarebbe teoricamente perché in realtà non è così è soltanto che la nostra civiltà si trova in un momento in cui c'è troppa carne al fuoco c'è troppa immaginazione che può venire fuori c'è bisogno però o di mettersi d'accordo assieme e quindi di rigenerare una cosmologia condivisa non deve essere per forza diciamo qualcosa che deve esistere soltanto tra civiltà occidentale e tutte le altre però c'è bisogno sicuramente di ritrovare questo perché si è visto che è una società che si vuole definire secolare per certi versi anche laica ma non nel senso di come dire religioso perché molti pensano il laico sarebbe il contrario del religioso no il laico vuol dire semplicemente qualsiasi alternativa ad una partecipazione con il sacro viene azzuppata e di conseguenza è come se ci fosse una una facoltà che fa parte di te connaturata ma che viene soffocata in continuazione e da lì poi nasce quello che si potrebbe chiamare il cancro dell'immaginazione cioè la teoria del complotto perché non c'è più un referente un riferimento che ti aiuta a fare a porre in armonia tutte queste possibilità di esistenza allora vedi che complottisti io poi diciamo ob torto collo mettiamola così ho notato che sono cominciati a fioccare canali youtube canali tiktok di gente che anche con milioni di follower di gente che dall'oggi al domani si sveglia e dice ma lo sapete quali sono gli angeli biblicamente corretti no? e ti mettono questo ah i famosi angeli che hanno un aspetto terrificante è diventato un meme quasi si 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 è esploso molto in area angloamericana e poi diciamo è arrivato un po' ovunque no spero spiegatemi come magari ti trovo delle immagini è una roba social si 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 alla fine si è sparso come come meme sui social cioè che gli angeli reali hanno un aspetto veramente inquietante cioè non sono quelli tutti così e come fanno a saperlo che sono così è perché vai tu vai lo sai meglio di me sicuramente no perché semplicemente hanno recuperato le le i racconti anzi delle visioni per esempio dei grandi profeti dell'antico testamento come come ezechiele come elia isaia hanno ripreso queste visioni in particolare quella dell'angelo diciamo biblicamente correde il meme diciamo è ripresa proprio da ezechiele e hanno detto guardate ragazzi gli angeli in realtà non sono delle creature bellissime carucce e tutto quanto ma sono dei mostri con occhio ovunque sa quelle cose lì ok il problema però è che quando ritrovi queste immagini anzi e la ritrovi perché non c'è più una mediazione anche questo perché piccola diciamo parentesi nel 1912 Ricke diceva la stessa cosa nelle sue leggi eduinesi gli angeli sono diventati tremendi e qualche anno più tardi credo 1940 qualcosa Max Ernst dipinge il mio francese fa schifo l'angel du foe che se vedi è questa immagine chimerica di una presenza ibrida umano animale che non si riesce più a comprendere o meglio per lo spirito dell'epoca ti faceva capire c'erano dei problemi eccolo qua esatto è quello ma questo è stato un po' che c'erano dei problemi no vabbè questo è stato rielaborato sì infatti stavo vedendo è quello lì è quello a fianco a fianco è un po' piccolo come risoluzione eccolo qua questo questo per esempio è un modo in cui nel 1900 hanno ricominciato a reimmaginare e quindi a ripresentarsi gli angeli quando dopo la morte di Dio non c'era più la cosmologia di riferimento che le aiutava a mediarsi nei confronti di questa realtà quindi ad un certo punto è diventata una crisi collettiva noi nel ventunesimo secolo che stiamo vivendo essenzialmente il rovescio parallelo del 1900 tu immagina prendi tutto il 1900 lo giri all'incontrario lo rivolgi di così come una scala musicale rovesciata e hai praticamente quello che succede nel ventunesimo secolo perché a parte che esattamente quello che diceva Nietzsche un po' come Galimberti ripeteva sempre no? Nietzsche diceva ci vorranno due secoli per comprendere questa cosa in realtà questi due secoli fanno parte di quei famosi ciclionici il famoso passaggio dall'età di pesce all'età dell'acquario di cui hanno parlato tutti ma che in realtà pochissimi hanno compreso davvero perché perché un po' come diceva anche l'articolo che mi pare di ricordare Adriano vi ha fatto leggere quello su filosofie del futuro esatto sì eh no l'ho curato io per questo è stato un volume che abbiamo curato per l'Italian Institute for the Future che è una delle realtà con cui ho collaborato anche a livello di editor di Roberto Paura e loro Adriano voglio dire in questo articolo ha detto essenzialmente la differenza che c'era fra Ernst Junger il famoso filosofo che voleva rintrodurre un tempo diciamo mitico un tempo ciclico al di fuori della storia ed Ernesto De Martino che invece ricordava sì però se vivi il tempo ciclico comunque lo stai percorrendo lungo la circonferenza quindi comunque sarà una cosa dietro l'altra e finirà per restare in lineare in realtà avevano ragione torto entrambi perché perché se uno pensa queste famose epoche di 2100 anni circa vengono una dietro l'altra è chiaro che sei ancora nel tempo lineare se invece se invece inizi inizi ad aprire questa diciamo questa partecipazione temporale e la vedi pian piano dalla prospettiva di un'immagine che ancora si deve dare ancora si sta formando non è limitata o incasellata in delle date cronologiche perché stiamo parlando di una temporalità diversa che non è quella storica ma è quella eonica i greci utilizzavano la parola aion per indicare dei tempi che non erano definiti dalla misura numerica ma erano per esempio definiti da delle grandi dei grandi momenti delle grandi partecipazioni tipo aion è per esempio una vita intera come fai a definire cronologicamente una vita intera se tu dici sono nato e morto in quella precisa data però tutto il tempo nel mezzo quell'insieme che sta nel mezzo è un tempo a sé stante per così dire oppure il tempo dei grandi cicli eonici delle rivoluzioni celesti quello era la ion noi diciamo siamo soliti parlare di cronos perché ci piacciono i numeri ormai è un po' quella cosa e questo lo dice molto bene Marie-Louise von Franz in Divinazione e Sincronicità per esempio perciò man mano che si esce fuori da questa sfera storica allora si vede che non è una questione di dire l'età dei pesci e l'età dell'acquario è una questione di dire nel mezzo nell'innominabile attuale è possibile ritrovare diverse immagini eoniche che stanno contemporaneamente agendo assieme perché una volta che esci dal tempo lineare il tempo diventa una sfera o anche un mandala che deve essere rigenerato attivamente di volta in volta perché non siamo più in un tempo non siamo più in uno spazio costituiti è un po' diciamo la stessa cosa che è successa con lo spazio geometrico di Einstein Minoski no Minoski se non sbaglio perché se tu sei in uno spazio completamente vuoto come lo spazio siderale non hai nessun punto di riferimento in che modo puoi immaginare che cosa sta succedendo in una parte dell'universo allora ecco che hanno cominciato a immaginare geometricamente le sfere luce che sono dei punti che vengono messi in relazione fra loro per esempio due sfere luce vengono messi in relazione fra loro tra due parti diverse dell'universo all'interno di queste sfere luce si considerano tutti gli eventi così come avvengono quasi come se fossero delle perle inanellate no un evento e una sfera luce poi di nuovo la sfera luce si radia di nuovo è un altro evento e così via perché essenzialmente la luce è uguale al tempo quando sei la teoria della relatività generale dice questo luce uguale tempo e devi partecipare attivamente all'osservazione di quella di quella luce quindi il tempo diventa il momento in cui tu percepisci la luce perché ti deve arrivare quando ti arriva ti arriva l'immagine del tempo quando vedi l'immagine del tempo stai partecipando di quella temporalità e il se essenzialmente prendi questo e lo applichi anche all'immaginazione al di fuori di qualsiasi limite cosciente chiamiamolo così essenzialmente funziona nello stesso modo è un'immaginazione attiva e costante che va fatta nel mentre e che si trova al di là di qualsiasi cerchio già tracciato quello un po' è un periodo che mi risuona tantissimo e che mi domando sempre se incorpora in sé dei pericoli o meno cioè a me è un periodo che fa paura perché ovviamente come sempre quando viene meno una certezza hai già capito che sono un pauroso perché ti ho detto non hai paura degli spiriti non hai paura del ah vabbè figurati è normale dell'innominabile attuale cioè mi inquieta l'idea che tutto può accadere che non ci sia un immaginario comune che la gente non possa non abbia più gli strumenti per immaginare ecco tendenzialmente non solo a me perché ne parliamo sempre anche con loro due credo che nell'inconscio collettivo da oramai da tanto tempo i film ne parlano che sono sempre anticipatori di quello che poi accade oramai ne parlavamo l'altro giorno in montagna e dicevano secondo me adesso i film catastrofisti non li fanno più perché sono accadute tutte cioè è già successo la catapia gli zombie ormai cioè non so come dire è un tempo oscuro e vabbè qualsiasi tentativo di non farlo sembrare oscuro che io faccio perché io poi come tutti sono fatto di più parti a seconda degli orari del giorno a seconda non sono non ho sempre una certezza di quello che percepisco e però poi quando riesco a liberarmi di questa oscurità soprattutto quando prendo alcune pastiglie no non sono droghe però cioè tipo erbe tipo la macca la macca per me è fortissima un super integratore che mi fa star bene la macca dell'amazzonia e mi dico caspita no Davide sei finito in un incantesimo quando pensi che tutto sta finendo quando Putin lancerà la bomba quando infatti io mi chiedo ma c'è mai stato un tempo che non era oscuro in cui la gente diceva siamo in un periodo oscuro no ma non è un'oscurità che deriva dal fatto che tutto va bene è un'oscurità che deriva dal fatto che non c'è una certezza non c'è la religione non c'è la scienza non c'è niente una direzione abbiamo troppa scelta troppa esatto mi ero preso questo appunto preso dal tuo libro ma che a sua volta è preso da Calasso l'innominabile attuale per Calasso la società contemporanea è frammentata al punto che è impossibile no questo sei tu per Calasso la società contemporanea è frammentata al punto che è impossibile persino dare un nome alla nostra epoca il mondo secolarizzato si contraddistingue da un lato per l'inconsistenza delle prospettive e questo cioè banalmente anche solo i nostri genitori bene o male avevano una sceneggiatura tracciata quando nascevano quindi noi siamo proprio la prima generazione ma anche noi negli anni 80 esatto a tuo pensamento negli anni 80 come era diverso il mondo no ma è diverso perché poi per i genitori dei miei genitori era uguale ai miei genitori quindi è proprio adesso perché si sapete tu nasci lavori vai a lavorare ti sposi con una donna invece adesso nasci si ti sposi ma anche no vado a lavorare no con una donna no con chi non lo so con un ibrido è saltato tutto cioè non c'è più la una singolarità esatto finisco per l'inconsistenza delle prospettive inconsistenza tra l'altro è un termine anche dove quasi a dire non è che non è che non ci sono è che non è da plasmare non sono esatto non sono te le devi fare tu esatto fai tu così che oscillano senza offrire una visione del mondo solida e quello è l'oscurità non è l'oscurità ci mancherebbe preferisco vivere adesso che nel 1500 con l'inquisizione cioè è senza questa cosa mentre dall'altro è diventato il riferimento ultimo per ogni sua riflessione questo invece è calasso è come se l'immaginazione si fosse amputata dopo millenni della sua capacità di guardare oltre la società alla ricerca di qualcosa che dà significato a ciò che accada all'interno della società questo qua ti dice noi abbiamo una società che basta a se stessa siccome non c'è tensione al sacro non c'è più o se non in Alessandro me e Giovanni e pochi altri non c'è più la tensione al sacro comunque non si può dire cioè per esempio l'Europa non ha un simbolo sacro non c'è l'Europa che è un ma forse la bandiera europea si può considerare un simbolo sacro per questa Europa qui sì penso di sì è perché le bandiere continuano ancora ad essere ovviamente non sono più dei simboli come prima è chiaro però continuano ad essere il fantasma di se stesse cercano di dare un minimo di però vedi anche quando per esempio scoppia una guerra o scoppia un conflitto che dir si voglia il punto è la prima cosa che succede è eroicizzare i protagonisti ma fino all'ossesso allora da un lato hai Putin dall'altro hai il presidente ucraino che non mi ricordo il nome Zelensky Zelensky ok Zelensky è stato sai non lo so tra poco lo facciamo papa capito quello il tuo discorso e lui oramai è un papa perché vanno tutti da lui a cerimoniare ecco tutti i grandi della terra e poi ieri è andato anche Sean Penn e non solo settimana scorsa ma proprio come quando vanno dal papa sì 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 cioè che lui è seduto io ho visto i video perché li vedo tutto lui è lì sulla schivania entrano scortati quasi inchinandosi a Zelensky anche Ben Stiller i premier qualunque riferimento politico non funziona in questo cioè non ti copre quello si sente la presenza di una guida che possa riunire tutte le genti questo è soltanto un effetto collaterale che succede è un po' lo stesso discorso che vorrebbero fare che vorrebbe fare Putin diciamo no lì ovviamente è da condannare per altri motivi perché questa per esempio è una bellissima intervista che è uscita sull'indiscreto di Gary Lachman con Francesco Disa che lui fa tutta la situazione della Russia essenzialmente c'è una trinità in Russia perché la Russia funziona un po' così è una nazione che si forma seguendo l'ordine spirituale diciamo della trinità anche o comunque l'ordine spirituale della propria chiesa allora c'è Putin che è un po' lo zar della situazione il re il monarca poi c'è il capo della chiesa ortodossa Kirill che ha scivolato l'altro giorno sull'acqua santa l'hai visto? sì secondo me gli hanno mandato un po' di cose dietro era la prima cosa che volevo dire era olio santo secondo me il fatto che Kirill sia caduto sull'acqua santa può essere un messaggio? non lo so penso di sì ma perché sicuramente qualcuno glielo avrà mandato dietro esatto e poi ci sarebbe questa figura che di Alexander Dugin che è a sud allora quando è scoppiato il conflitto a febbraio io dissi la prima cosa signori voi ci avete Putin che vuole realizzare una realtà spirituale attraverso il no scusami una realtà politica attraverso questo queste riprese spirituale perché Putin si è letto un sacco di libri a parte quelli di Dugin ma poi si è letto un sacco di libri di filosofi russi che essenzialmente enfatizzavano l'unità del popolo russo dell'entità russa come un singolo polo no? questa è anche un po' la stessa cosa che riprende l'Akman cioè c'è proprio un altro modo di intendersi però allo stesso tempo Dugin è praticamente un Saruman perché? perché lui vorrebbe si è voluto costruire questa immagine del filosofo di Putin no? poi tutte io diciamo non gli volevo dare cosa poi tutti i media gli hanno dato cosa e ha detto però scusate no? Dugin essenzialmente ha proposto questa famosa filosofia della la quarta teoria politica che è un copia e incolla di Epola ti giuro non c'è assolutamente cavalcare la tigre tra l'altro simbolo peggio travisato tra tutti gli esoteristi non solo quelli di estrema destra ma in generale perché cavalcare allora la deità che cavalca l'animale fin dai tempi antichi vuol dire semplicemente essere tutt'uno con l'animale non è un'imposizione la divinità che cavalca l'animale è sempre stato mettere assieme le due realtà perché poi le divinità sono sempre state teriantropiche come dice Caffarella cioè sono sempre state umano-animali all'inizio almeno poi dopo il famoso periodo della nascita dei monoteismi che ce l'abbiamo qua ce l'abbiamo qua guarda esattamente esattamente questo esatto questa esattamente a parte che questa è la quintessenza del dei corpi sciamanici perché di fatti quando gli sciamani divendono o incarnano a seconda dei casi le deità assumono queste forme qui loro diventano la deità e quindi non puoi più fare una differenza fra le due poi ah questa è troppo bella allora noi viviamo adesso facciamo un piccolo un piccolo salto gigantesco oppure finiamo prima la storia di lui non lo so tiriamo a testa e croce ok perché sono collegate le due cose essenzialmente quello che vediamo oggi è una crisi del monoteismo il monoteismo non nel senso soltanto di religione ma nel senso proprio di presenza allora vedi che appaiono tutte queste figure storiche che di fatti sono legate al secolo scorso è come se si fossero persi dei passaggi perché non riescono più a stare al passo con lo spirito del tempo allora anche il fatto che la guarda teoria politica non proponga assolutamente nessun modo per rinnovare questo spirito per rinnovare queste immagini per rinnovare queste cosmologie ma dica semplicemente torniamo a quelle che c'erano prima c'è una cosa assurda tra l'altro poi c'è tutta una critica che si deve fare attraverso Kashmit attraverso tutta questa ripresa che Dugin fa e là si entra in un discorso proprio filosofico simbolico perché Kashmit per esempio all'epoca aveva detto sì è vero ci sono terra e mare ci sono le diverse forze geopolitiche che sono allo stesso tempo forze elementali e quindi il popolo che si che si medesima e vive in una particolare emisfero del luogo diventa anche l'espressione dello spirito di quel luogo dello spirito di quella geografia e dello spirito di quella forza elementale allora in Kashmit c'erano il behemoth e il leviatano che poi Jung riprende dice sono due aspetti animali del dio unico ni però è anche vero che il famoso dio unico giudaico cristiano all'epoca assumeva come dire che noi italiani siamo così perché c'è uno spirito italico che ci possiede allora sì sicuramente perché l'Italia per esempio infatti io devo fare sto lavoro no no figura infatti quando gli svizzeri superano il casello diventano italiani vanno più veloci degli altri vabbè quello anche un po' perché dicono tanto possiamo svagarci non siamo più a casa nostra per ricollegarci alla puntata precedente l'Italia è il dispositivo che ci è un dispositivo ci italianizza con cui ci relazioniamo e dalla combinazione anche tu Mario citava Gilles Deleuze perché l'ospite che è Massimo Temporelli che salutiamo ci ha fatto leggere nel suo libro quando parla che il dispositivo ci possiede quando noi pensiamo di usare l'iPhone in realtà è l'iPhone che usa noi adesso l'abbiamo capito però negli anni precedenti no guarda un po' lo stesso discorso con no ma guarda ridendo e scherzando è lo stesso discorso con il monoteismo oggi cioè ci sono tutta una serie di valori che noi adottiamo che li intendiamo in modo secolare tipo non lo so i provita che dicono sono aborto esatto oppure il ritorno di questi questi governi conservatori che letteralmente stanno pian piano cambiando le leggi stanno creando un blocco enorme rispetto a quelli che erano stati progressi di 50 anni progressi brutta parola però insomma delle realizzazioni di 50 anni fa no? come in America per esempio ma questa è una cosa che vedi ovunque lo vedi in Brasile con Bolsonaro lo vedi un po' in India con Modi si chiama Modi? in Russia palesemente con Putin in America Biden è letteralmente un segnaposto che serve a non far salire Trump non serve a nient'altro cioè proprio se ce la fa stare in piedi se ce la fa ovviamente per questo motivo perché poi da dietro ci stanno ancora tutti quelli seguaci di Trump che dicono no ma stare in piedi in generale perché se hai visto ieri come cazzo camminava dalla bicicletta no 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 è caduto dalla bicicletta ma adesso poverino già era esatto problematico adesso non riesci anche più a camminare vai vai poi niente avete visto anche la Meloni che ha fatto quella cosa assurda in spazio allora sì questo discorso con voce cattiva proprio palesemente siamo discorsi del secolo scorso veramente è fatto di contrapposizioni cioè se non volete questo o questo oppure anche il fenomeno Jordan Peterson se qua abbiamo un mamma mia vabbè una persona complessa allora io vabbè chi se ne fai no dicevi no no comunque non è tutto male Jordan Peterson allora non è tutto male perché da un lato è vero che in America tutta la parte femminista e gli intellettuali di sinistra hanno cominciato ad agire in quel modo molto in positivo quello è vero però il problema di Peterson è che ha contrattaccato con un'ulteriore imposizione e quindi non è che ha cercato di fare di interrompere la la mareggiata bravo questa cosa la penso anch'io cioè allora quella cosa che io sempre dico se tu vuoi dare potere ai maschi in particolare che stanno vivendo una crisi enorme perché semplicemente sul piano psicologico sociale la crisi della morte di Dio e questo Peterson lo sa perché l'ha detto miliardi di volte e lo sappiamo anche noi però Nietzsche all'epoca questa è una cosa che Peterson ovviamente non se l'ha capita perché Peterson è comunque un pragmatista ha una formazione psicologo però ha una formazione molto più analitica dello psicologo lui va in giro a dire di Jung però in realtà hai capito pure nelle sue lezioni universitarie perché poi me lo sono visto bene quello che fa nelle sue lezioni universitarie lui riprende i miti antichi come per esempio Horus Seth e Iside oppure riprende il mito che è quello egizio oppure riprende il mito antico di Marduk e Tiamat sì ma questi miti nell'ambito della civiltà egizia e nell'ambito della civiltà delle civiltà mesopotamiche sono miti già tardi perché perché sono già affiorate queste figure che lui la figura di Horus e la figura di Marduk che lui legge in chiave di civiltà lui legge il simbolo in chiave di autorità della civiltà quindi anche tutto il discorso dell'autorità patriarcale eccetera ma puoi anche non usare queste parole il problema però è che leggendoli in questo modo ha dimostrato di riprendere pari pari ma neanche guarda neanche lo Jung dei simboli della trasformazione quando l'ha scritto la prima volta capisci? allora è come se si fosse saltato tutto il libro rosso è come se si fosse saltato tutto Aion il mistero in connessione cioè è come se l'avesse tolto di mezzo di mezzo perché per riprendere quei miti lui nella sua testa starebbe facendo un favore agli uomini che oggi hanno bisogno di essere potenziati nella loro rappresentazione eroica però così facendo stai mantenendo uno status quo che invece dopo il novecento dobbiamo superare allora Peterson non è una persona creativa è una persona invece che può soltanto dire le cose come sono state dette però all'atto pratico dato che non esercita l'immaginazione creatrice quella di Corben per esempio oppure dato che non ha Enrico Orben ok oppure quella che come è scritto Ah Rick Orben Rick Orben esatto e il famoso Enrico Orben come si dice Enrico Orben e dato che lui non ha una partecipazione diretta con queste immagini perché lui stesso diciamo fa un po' fatica a fare queste cose perché quella formazione da psicologo non ti permette di fare se tu resti al livello del simbolo tu non stai vivendo le immagini tu stai interpretando che è un'altra cosa e quindi c'è sempre un filtro c'è sempre una barriera e l'immagine vivente non riesce a smuoversi quando vai a leggere i libri neri e poi i libri rossi le figure che incontra Jung che sono Elia Salome Atmavictu che poi diventa Filemone e lui lo disegna Atmavictu è proprio uno sciamano antico che si è incarnato non si è incarnato scusate si è manifestato lì e lui l'ha dipinto in quel momento nel libro rosso con questa grande maschera caprina che è una cosa meravigliosa poi da quella immagine Atmavictu gli dice io sono stato tante forme sono stato tante vite sono stato un uomo sono stato un orso sono stato tante cose poi diventa Filemone e Filemone diciamo lui l'ha reso bene o male più noto perché poi entra nella sua biografia è colui che lo guida attraverso i libri rossi tutte queste cose sono importanti perché loro gli dicono spressamente non siamo archetipi glielo dicono proprio glielo dicono nel libro rosso Filemone glielo dice non sono un archetipo non mi trattare così glielo dicono nei libri neri nella biografia memoria, sogni, riflessioni no sì memoria, sogni, riflessioni o ricordi, sogni, riflessioni quando leggi tutti i paragrafi dove parla dei suoi incontri con Elia con Salome con Filemone e ne descrive anche diciamo le immagini mitologiche lui dice per me io poi ho compreso che per me erano dei guru non usa mai la parola archetipo in quei paragrafi e non perché ormai è diventata una parola di esso comune ma perché non la si deve usare perché non sono dei tipos non sono diciamo degli stampi o delle delle formine all'interno del quale sono delle essenze fatte finite sono degli esseri viventi essenzialmente che comunicano attraverso altre vie e questo è qualcosa che è successo in tutto il novecento perché Nietzsche con Zarathustra Rilke con Orfeo Jung con Filemone Khalil Gibran con il profeta al Mustafa che poi in realtà sarebbe una ripresa di Maometto però non lo si può dire perché altrimenti eh altrimenti ti accoppano l'abbiamo detto esatto però voglio dire sai Khalil Gibran nel contempo questo bene o male succede nella prima metà del millenovecento il libro rosso diciamo si si porta un po' avanti però lui vuol dire finisce il lavoro quando riceve il fiore del il segreto del fiore d'oro quindi da lì in poi continua a portare le immagini no e le cerca di iscrivere nella sua opera divulgativa quindi già che uno approccia l'opera deve capire è una traduzione tu devi andare dietro l'opera devi andare dove lui ha vissuto veramente che è proprio il libro rosso nel contempo dato che stiamo sempre nella morte di Dio no nel contempo andiamo a vedere che cosa succede altrove abbiamo gli antropologi che per la prima volta dopo secoli che avevano parlato male degli sciamani perché avevano l'abitudine l'antropologia in realtà è una è un po' una degenerazione perché immagina una civiltà che si crede così distaccata dal resto del mondo da dover studiare l'umano come oggetto di studio è una cosa un po' no? infatti le prime volte che andavano in relazione dalle prime testimonianze di Marco Polo nel XIII secolo fino a tutto il rinascimento fino all'età moderna fino al 1800 circa gli sciamani che venivano osservati nelle zone della Siberia oppure nelle zone dell'asse centrale venivano sempre descritti in due modi o come servi del diavolo dai missionari o come buffoni dagli illuministi poi pian piano tra il 1800 e il 1900 alcuni filosofi tedeschi come Herder hanno detto forse c'è qualcosa di più perché queste persone stanno effettivamente rievocando il mito della propria comunità quindi non è che devono essere tacciati in questo modo durante il 1900 è l'epoca dei grandi incontri quindi abbiamo Rasmussen con Agua nel 1921-22 se non sbaglio poi abbiamo o comunque attorno a quell'epoca là poi abbiamo Alcenero con John Hayard e poi abbiamo Marcel Griol con Ogotemmeli il dio d'acqua tra i dogon poi abbiamo Maria Sabina e qua siamo già nel 1960-70 se non sbaglio forse un pochino di più e poi abbiamo Dulcis in Fundo Davico Penawa che è uscito ultimamente ultimamente saranno un paio di anni forse tre anni con La Caduta del Cielo non so se l'avete visto come libro di nottetempo comunque se tu segui tutto questo filone vedi che durante il 900 la civiltà occidentale ha compreso qual era la risposta alla morte di Dio anche perché Nietzsche stesso voglio dire nel suo Così parlo Zaratustra mostra la via perché così parlo Zaratustra parte fatto che Zaratustra dice gli è apparso in un momento di completa estasi in cui a mezzogiorno l'uno divenne due e Zaratustra mi passo accanto così dice Nietzsche una cosa meravigliosa cosa comprende allora parte che comprende la famosa storia dei cicli onici perché poi lo scrive nello Zaratustra tu insegni che esiste un grande anno eccetera ma poi attraverso di lui Zaratustra stesso cioè il profeta antico è come se si rinnovasse alla fine di un'epoca che è l'epoca dei grandi monoteismi perché all'inizio del libro c'è l'immagine di Zaratustra che scende dalla montagna e dice devo tramontare come tu tramonti riferendosi al sole di Omnico alla fine del libro dopo aver fatto il suo viaggio che poi lo porta nelle isole beate lo porta in questi altri mondi alla fine del viaggio lui si ricongiunge dice proprio il sole è stato ricondotto ai suoi animali e io mi sono ricongiunto ai miei animali che sono l'aquila il leone il seppente e dice finalmente Zaratustra è felice con i suoi fratelli animali è una visione meravigliosa e così si chiude il libro è una visione meravigliosa perché dice invece di essere trascinato in una trascendenza o posseduto da questa trascendenza che ti ha preso se non sbaglio verso il 1500 perché più o meno è quella all'epoca avanti Cristo dico perché quella all'epoca è bene e male è vissuto Zaratustra storico aiuti colui che poi è stato considerato l'iniziatore dei monoteismi è il primo dei maghi tra parentesi o comunque che ha dato origine ai maghi in senso stretto lo aiuti a ricongiungersi con le forze della terra con le forme animali che sono le forme che aiutano diciamo queste divinità più assolute più disincarnate ad assumere una forma e quindi a non impazzire essenzialmente a non ritorcersi su se stesse ok la stessa cosa è successa con Rilke Rilke era disperato quando perché la sua poesia è essenzialmente la poesia della fine del mondo nelle lege duinesi però poi che succede infatti lui diceva forse c'è rimasto un albero fra una roccia e un fiume da qualche parte però non c'è più un mondo lo dice proprio e poi lì appare Orfeo e Orfeo è essenzialmente colui che lo riporta al mondo al mondo animale e al mondo del sacro poi un animale sacrale ok stessa cosa con Jung Filemone lo aiuta e dice nel libro rosso lo conduce verso il dio della nuova epoca ora molte persone lo so sto facendo un discorso gigantesco ma è bellissimo molte persone parlano del dio della nuova epoca come se fosse Abraxas quindi il dio gnostico no? e dicono ah ok quindi Jung era un gnostico no Filemone si riferisce ad Abraxas perché come dicono poi alcuni se non sbaglio Igor Caputo sì Igor Caputo e Paolo Riberi hanno scritto questo libro che si chiama Abraxas la magia del tamburo la forma di edito da Mimesis se non sbaglio sì sì perché poi l'ho recenziato pure tra le altre cose la forma divina del dio gnostico Abraxas è una forma chimerica ed è una forma sciamanica e in quel caso lì allora non vuol dire Filemone dice devi rifarti a una corrente gnostica oppure alla religione gnostica che non esiste ma devi rifarti all'immagine chimerica del dio e Filemone pure era un'immagine chimerica perché era un uomo il vecchio saggio barbuto con le corna taurine e le ali di Martin Pescatore e a fianco a lui appare una serpe nera con le squame d'oro è meraviglioso e nello stesso tempo gli antropologi hanno ricominciato a incontrare degli sciamani da altre comunità che o venivano visitati perché la civiltà si stava espandendo oppure erano arrivati alla fine della loro comunità nel caso di Alcenero per esempio perché erano stati devastati allora nell'arco di pochissimi anni allora lì vedi che tutto il novecento in realtà ti sta dicendo andiamo in questa direzione qua dov'è che però manca diciamo il passaggio manca nel fatto che dopo la cristianità quindi dopo il rinascimento l'immagine del Cristo che era diventata così assoluta e c'è un motivo preciso perché è diventata così assoluta aveva letteralmente dominato tutta la sfera dell'immaginario cioè esiste solo il Cristo esiste il Dio Padre esiste la Trinità esiste la Madonna e basta una cosa interessante che dice Slott è che la modernità inizia come reazione a questo immaginario quindi invece di essere il figlio essere la madre essere il padre inizia tutta un'epoca della modernità che si chiama l'epoca dei bastardi orfani bastardi nel senso di orfani certo e l'epoca dei pirati insomma l'epoca di persone che non vogliono avere legami di sangue per questo motivo qua perché c'è il tentativo di rompere questa filiazione oggi siamo essenzialmente diciamo siamo un po' concordi nel dire siamo nell'epoca del ritorno del politeismo però attenzione attenzione perché è vero che ci stiamo moltiplicando su tante possibilità ci sono tanti immaginari ormai ce ne sono anche troppi ormai Netflix il cinema sono diventati scatole di contenuti ecco quindi anche tutte queste serie che fanno tutte queste cose sono diventate assurde però dall'altro lato anche attraverso questi immaginari se hanno una radice veritiera è possibile vedere che cosa sta succedendo perciò per esempio George Lucas e Joseph Campbell ovviamente hanno dato vita a Star Wars Darth Vader Darth Vader era essenzialmente la forma decaduta del dio unico rinchiuso all'interno il dio unico che ormai è diventato un essere deforme metà uomo metà macchina è proprio decaduto ed è rinchiuso all'interno di quella di quell'immagine lì e la prima trilogia per esempio di Star Wars è l'iniziazione quindi anche la maturità di Luke che dalla spada laser blu passa alla spada laser verde perché quella è un'iniziazione segue una colorazione sufi il blu è il colore del discepolo il verde al kidur è il colore del maestro e quando si è arrivato alla viriditas al verde verdeggiare di il legarda vubingen si è arrivato alla totalità della natura la totalità del mondo si è in armonia con tutte le tutte le possibili manifestazioni del mondo e lì poi c'è la scoperta della famosa scena finale che toglie il casco e tutto e si scopre questo essere così Campbell ha commentato molto spesso queste cose ha detto una scena meravigliosa perché ti fa capire in che momento siamo tornati è l'uomo indebolito all'interno del guscio della macchina che si ritrova e si riscopre alla fine dei conti di nuovo umano quell'immagine di Darth Vader per esempio è un'immagine è un fantasma una forma decaduta dell'immagine del dio unico la stessa cosa succede quando oggi trovi nelle nuove serie che stanno facendo vedi che c'è in atto un conflitto fra il tentativo di ritrovare una mascolinità che deve combattere questo tentativo di degenerare di nuovo in questo assolutismo perfissimo infatti per un periodo hanno cominciato a mettere solo protagoniste donne e quello vabbè figuriamoci adesso invece effettivamente siamo in quella fase in cui c'è un lead tipo Batman l'ultimo Batman non so se l'hai visto è un po' diverso dagli altri Batman un Batman che innanzitutto piange che ha delle debolezze quindi ha una componente femminile dal punto di vista archetipico non è che le donne piangono è una virilità esatto vulnerabile è interessante forse stiamo già superando perché qualcuno forse la puntata precedente parlava di pendolo Temporelli è ovvio che siano stati per secoli una società patriarcale con un immaginario di quel tipo e poi siamo andati in estremità siamo ancora in quella fase probabilmente negli Stati Uniti di più che qua vabbè gli Stati Uniti estremizzano qualsiasi cosa radicalismo gender gender scusate gender fluid e adesso invece stiamo forse avvicinandoci speriamo ad una centralità più consapevole più equilibrata più equilibrata sì perché poi il anche per esempio il Cavaliere Verde no? che hanno fatto come film ultimamente il Cavaliere Verde è proprio non so se l'avete visto no praticamente è la ripresa di un racconto di Sir Gawain Cavaliere della Tavola Rotonda e il recupero di un racconto arturiano che è essenzialmente un altro rito di iniziazione maschile e vabbè forse la storia il nipote di Rare 2 eccetera eccetera uscita 2021 regista David Lowery la cosa interessante è che in quel film ci sta una scena in cui Wayne che viene considerato diciamo il maschio etero deve rapportarsi con la matrona di questa tenuta di caccia e con il cacciatore ed entrambi sono diciamo ti fanno capire che sono non voglio dire scambisti però ti fanno capire che gli piacciono tante cose dicendo in termini sessuali il cacciatore ti fa capire che è pansessuale bisessuale e la moglie invece è la classica donna tentatrice che deve mettere a prova il cavaliere per fargli passare è interessante perché stanno cominciando ad entrare tutte queste cose in questi immaginari è come dire come facciamo a rapportarci con questa cosa in realtà non è difficile perché prima di tutto non c'è bisogno di rapportare nel senso è la scoperta di tante possibilità di esistenza che stanno ritrovati che devono ritrovare un immaginario perduto noi stessi lo stiamo recuperando pian piano quindi da che dobbiamo liberarci da un immaginario molto e quindi anche da un'immaginazione in questo caso perché le due cose stanno coincidendo spesso molto incentrata su questa storia su questo monoteismo assoluto si apre a tante possibilità anche di esperire il sacro quindi a tante forme divine a tanti che poi diventano i supereroi banalmente parlando però quella è già una degenerazione dall'altro lato ci sono tutte queste persone che stanno facendo studi di religioni stanno postando su youtube stanno facendo tutte queste ricerche e queste riprese e dall'altro lato però manca ancora qualcosa cioè manca il salto manca cioè quella che Corbin chiama l'immaginale che significa significa una partecipazione diretta con l'immaginazione intesa come esperienza viva quindi invece di rapportarti con l'immagine già costituita di relazioni con l'immagine e questa è una cosa tipicamente creativa banalmente si direbbe il compito del veggente oppure dello sciamano oppure dell'artista e già dire artista è una riduzione però il compito dei veggenti è fare questo una cosa interessante che mi sta venendo in mente adesso c'è Federico Campagna che è uno dei grandi filosofi è giovane sicuramente ma è uno dei grandi filosofi della nostra del momento diciamo perché è uno dei più originali lui essenzialmente è l'autore di Magia e Tecnica che è pure uscito per Tlone e adesso deve ha scritto anche altri libri in inglese uno di questi si chiama Prophetic Culture e in questo libro lui essenzialmente dice recuperiamo un modo di prima di tutto intendere le scritture sacre cioè tutto questo rapporto che è già passato recuperiamo un modo per intendere queste scritture sacre come non assolute quindi ritrovare una lingua che permetta di riemmaginare nuove cosmologie allo stesso tempo non cerchiamo di fossilizzarci sul fatto che ciò che è venuto prima non può essere rinnovato è quello che noi l'abbiamo fatto noi l'abbiamo fatto qua dove ci sei seduto tu c'è stato seduto un professore di storia della cattolica si chiama professor Paolo Colombo che ci ha fatto proprio questa cosa che hai detto tu cioè una rilettura della cosmologia legata al mondo del Vangelo di Gesù raccontando non diciamo come è capitato in tanti testi di fanta fanta religione no proprio andando a collegarsi con le emozioni interpretazione delle emozioni che poteva avere avuto Gesù in particolare momento cioè dandole una sfumatura più umana alla figura del Cristo e devo dire che spacca perché quando la racconta comunque ho visto perché io l'ho conosciuto in un master universitario dove l'hai insegnato ha fatto racconta queste parabole due o tre parabole lette da un punto di vista diverso cioè con un'interpretazione non dogmatica teologica ma quasi veramente psicologica comportamentale emotiva bellissima cioè ma sai questo è per esempio un lavoro che stiamo facendo molto anche noi come gruppo diciamo di filosofi visionari che ci siamo un po' ritrovati a parte lo stesso Giorgio Maria con la consigna delle bracci Pierpaolo di Mino e Veronica Leffe con il libro azzurro e lo splendore lo splendore è un romanzo che Pierpaolo sta scrivendo e che probabilmente troverà compimento nel corso dei secoli e il libro azzurro è un libro che compare all'interno di questo romanzo e che è pensato per essere di volta in volta un diverso modo di raccontare le tradizioni antiche allora perché chi lo apre diciamo vede un'immagine che che risponda alla sua visione ma allo stesso tempo un'immagine che rinnova queste tradizioni e mi ricordo che lui hanno scritto e disegnato per esempio Malamormionumure che è il modo di ritrovare tutto l'afflatto della sposa mistica dell'amore mistico che è intessuto nella Kabbalah nella tradizione ebraica rabbinica perché c'è questa figura del maestro come si chiama Abba Abak qualcosa del già adesso mi sfugge il nome comunque racconta tutte queste adesso Pierpaolo mi menerà male racconta tutte queste tutte le storie di queste donne meravigliose con una ricerca iconografica straordinaria che cerca di ritrovare e quindi di dare anche a questa questa forma divina un modo per ritrovare la sua parte androgina quindi per ritrovare il suo legame con il mondo esatto guarda le cose di professor Colombo perché credo che ti possano interessare anche solo per l'esercizio perché non è banalmente quello che fa Benigni perché Benigni che mi piace però Benigni rende pop non so un testo spirituale e lo rende democratico un po' piacione lui invece ne fa un'interpretazione parlo di Paolo Colombo psicologica un filo più più interessante più allora è sicuramente importante però il problema di questi di queste scritture anche di questi di questi miti di queste visioni è che bisogna ritornare proprio alla radice perché se non si riscrive idealmente ma idealmente Novalis diceva che era sempre possibile riscrivere la Bibbia Novalis è un grande filosofo tedesco del periodo romantico se non si riscrive proprio da zero il testo sacro certe immagini certe visioni resteranno lì eh sì tipo anche adesso molti cristiani diventano fondamentalisti perché non hanno o conservatori fanatici perché non hanno più un posto nel mondo non sentono più di avere un posto nel mondo l'istituzione ecclesiastica non realizza più quella verità che loro sentono perché? perché essenzialmente anche la chiesa sta è vero che c'è una guerra intestina nella chiesa esatto io ho degli informatori non posso dire chi anch'io anch'io che c'è una situazione esatto estrema ma quelle realtà allora non sarebbe tanto complesso nell'insieme perché? perché noi abbiamo già tutta la tradizione che volgarmente chiamiamo esoterica del cristianesimo con tutti i vangeli apocri fignostici no? li possiamo riprendere perché anche banalmente nel semplice rapporto che viene ripreso tra un Gesù e una Maria Maddalena non c'è niente di scandaloso perché è semplicemente l'amore divino così come questo Pierpaolo lo riprende e Veronica lo riprendono bene così come veniva ripreso per esempio dalla figura di Salomone del re Salomone quando il problema è che la Bibbia distorce questa cosa perché la Bibbia dice Salomone cominciò a dedicarsi all'idolatria dei falsi dèi alle donne faceva un po' questa no Salomone che cosa fece? aprì il tempio alla forza divina quella che poi nell'ambito ebraico è la Shekinah aprì il tempio alle donne aprì il tempio a questa gioia di vivere e quindi di conseguenza aprì il tempio anche la possibilità del Dio di ritornare ad avere una forma diretta poi su queste cose ci sono delle ricerche in corso e quindi magari ne parleremo un'altra volta perché sta uscendo anche un altro libello dedicato a questo dedicato proprio al rinnovamento a una visione nuova dei monoteismi che allo stesso tempo è un sanarli a proposito di questa cosa che hai detto che mi risuona tantissimo e si parla con quello che abbiamo detto prima col filosofo di riferimento di Putin che è? Dugin Dugin Alexander Gleves Dugin quanto può essere perdente una restaurazione cioè non so come dire non si è mai verificata nella storia qualcuno che cercava di restaurare come erano prima le cose beh oddio ci hanno provato sicuramente però però alla fine non so come dire la vita è più forte esatto allora le civiltà hanno sempre avuto delle crisi cicliche questo sì il problema però è che una crisi ti sta dicendo è arrivato il momento di riaprirsi ad un nuovo modo d'essere se tu riprendi la stessa identica organizzazione e lo stesso identico rapporto che c'era prima stai affossando tutto per questo dico è un Saruman perché è una persona che a differenza di tutti gli altri maghi di Tolkien è l'unico poi che si separa dal cerchio e cade vittima di Sauron Sauron nell'ambito di Tolkien è un'altra immaginazione del Dio Unico tra l'altro Tolkien c'è tutta l'opera del Signore del Simmalirion essenzialmente concorde con lo spirito del Novecento perché anche Tolkien ha fatto la stessa cosa di Nietzsche in chiave diversa lui ha riportato alla vita il figlio c'è tutte le creature che erano state messe al bando non totalmente perché in ambito scandinavo non sono stati così radicali come in Italia però erano state messe al bando da questa presenza enorme e però sono ritornate con Tolkien allora oggi viene banalmente considerato fantasy non è fantasy però deve essere sai letto bene e allora lì magari può aiutare la persona che ti dice sì però guarda che questa lettura qui è in accordo e si rifà a questo tipo di vivere che magari molti possono pensare stai cercando di di dirmi cioè stai cercando di possedere la mia di dirmi cosa pensare no è quella la differenza ti sto dando una direzione perché perché il compito di alcune persone è quello di fare questo è proprio voglio dire perché esiste il bodhisattva perché esiste lo sciamano perché esiste il veggente per dare la direzione alla comunità ok allora in questi casi questo non è un imporre è un armonizzare è lì poi che si perché altrimenti poi si si finisce nell'essere posseduti da queste da queste immagini che sono ancora forti Dugin è posseduto da questa cosa come si ok come si fa secondo te a fare un percorso che includa questa molteplicità questo questo rinnovare rinnovarsi nell'ascolto di altre entità eccetera senza cadere nelle trappole dei guru da facebook oppure quelli che ti fanno cioè è venuta qua una volta la Valentina Margherita Mosca che è la massima esponente italiana del foraging cioè quelle persone che vanno a fare a raccogliere erbe selvagge e fu molto anche lei vedi che noi riusciamo a unire dei mondi sì sì cioè fu molto anche lei dissacrante quando dice basta con questo forest buffing questi bagni di foresta la foresta non è un posto dove si fa il bagno è un posto intenso dove si vive ecco lei diceva dove non non ha senso andare là per elevare lo stress che tu vivi nella città cioè non è una discarica di stress dai cittadini ti risuona questa cosa è voglia ecco mi è piaciuto molto il modo quello che hai detto è nuovo cioè non l'ho mai sentito mentre invece l'immaginario comune adesso è tutto sì peace and love andiamo nella foresta quando basta che arrivi a 2000 metri cambia il vento e sei in una tenda e fa freddo e dici col cazzo voglio tornare in città cioè la foresta non è un luogo comodo no? sei d'accordo? no non è per niente comodo e deve essere rispettato mi viene in mente Andrea Cassini con i suoi diai del lupo per esempio che lui tiene queste questi audio queste registrazioni su fandango radio se non sbaglio assieme qualche volta Francesca Matteoni fanno delle registrazioni assieme e lui dice proprio questo cioè riprendendo anche un po' il discorso che fa Baptiste Morisot sulla pista animale che è un filosofo francese che si chiede come facciamo come facciamo a ritornare nel mondo senza ridurlo all'ennesima parodia semplicemente inizi a seguire coloro che già ci abitano allora non importi cercando di dire ok vado lì faccio le cose mie no segui coloro che già vivono là lo so che può sembrare forse già avanzata come cosa perché molte persone dovrebbero partire proprio da meno di zero però essenzialmente almeno in questo ambito qua per il fatto invece dei guru che dicevi lì è molto più sottile la cosa perché perché durante gli anni 60 il famoso mantra di Kishnamurti no guru no method no teacher ha rovinato un po' queste cose perché perché con l'idea di poter fare a meno di una figura guida ha reso prima di tutto ha proprio svuotato un luogo sacrosanto in cui si ritrova la figura del maestro che è essenziale sempre e questo non significa che devi per forza il problema di questa civiltà è che percepisce il seguire un maestro come la soggettarsi a qualcun altro perché c'è la famosa libertà di pensiero e tutte quelle cose là a parte che la libertà di pensiero non è mai esistita perché appunto sono quello che noi chiamiamo pensiero è soltanto la versione concettuale di immagini che vengono poi elaborate dalla mente tra parentesi razionale che in realtà è a sua volta un prodotto storico perché noi ci siamo arrivati a questo livello non ci siamo nati e il problema della coscienza così come la intendiamo oggi è che ci dà l'illusione di essere così da sempre allora nel momento in cui esci da questa parte con questo c'era un filosofo interessante che io e Francesco Disa stavamo riprendendo contemporaneamente l'uno all'oscuro dell'altro interessante questa cosa che si chiama Jean Gespler svizzero se non mi ricordo male sempre della prima metà del 1900 e lui diceva ha scritto questo libro che si chiama L'origine onnipresente che già dal titolo è meraviglioso lui dice proprio madonna veramente lui dice proprio ci sono diverse diversi modi in cui noi viviamo il mondo che possiamo chiamare coscienza magica coscienza arcaica no prima l'arcaica poi la magica poi la mitica e poi la razionale e alla fine arriva l'integrale lui essenzialmente che dice tutti questi modi di coscienza coesistono sempre è soltanto quando abbiamo l'illusione di essere di trovarci in uno di questi modi rispetto agli altri pensiamo che siano separati in realtà coesistono il punto è un po' anche quello che ha cercato di fare Ernesto De Martino cioè riportare lui infatti usa la stessa parola usa presenza per indicare questo dover essere in continuazione doversi riaffermare in continuazione attraverso questi modi di esistenza che chiamare coscienza è anche riduttivo perché noi parliamo di coscienza ma un egiziano del 2500 no 2500 però 2000 avanti Cristo sì direbbe loro avevano otto anime diverse che poi noi chiamiamo anime impropriamente allora già vedi c'è un filtro il monoteismo è doppio no ma a parte questo il monoteismo non è solo è culturale tutte le parole infatti questo è un motivo per cui il nostro gruppo diciamo noi tutti ci stiamo impegnando anche in questo perché se tu non cambi e rinnovi certe parole continuerai a restare sempre nello stesso nella stessa cerchia civile della civiltà quindi chi ha deciso per esempio che Dio deve essere il nome unico per rapportarsi con tutti gli altri esseri sacri delle altre comunità perché se vai a vedere il modo in cui usano le parole per riferirsi a queste presenze usano delle parole diverse dalla nostra idea di Dio ci sono anche delle culture che non nominano neanche Dio esatto tipo sono stato in un weekend in un monastero zen Fudenji qui in un weekend non si è mai sentita la parola Dio non l'hanno mai neanche nominata sull'Asia Orientale apriamo una porta che poi sta pure nel Crisomallo cioè la famosa idea dei cioè non idea nelle correnti buddiste poi che noi abbiamo assorbito no però prima parlo di questa cosa di Dio perché se no poi si entra in un altro mondo quindi se tu usi la monoteismo e politeismo come parole teos no? sempre teos in mezzo per definire tutte le altre presenze sacre dell'antichità o di altri tempi è chiaro che hai sempre un blocco perché queste civiltà non la vivevano assolutamente così i sumeri che facevano stiamo parlando di 3.000 no forse un pochino di sì sì un pochino di 3.800 3.900 a.C. le prime città stato sorgono proprio perché sono degli spazi sacri che vengono mantenuti dalla presenza del Dio al centro nella zigurat il Dio è incarnato nella statua di pietra e la statua di pietra è addobbata è pulita è lavata ci si parla ci si relaziona esattamente come ad una persona perché è una presenza ok? è lì e vive con con tutti gli altri e anche le divinità di quest'epoca non sono semplicemente divinità sono nella nella teologia cristiana esiste la parola teriandria cioè umano divino sono umani divini ok? che noi non sono semidei sono proprio umani divini allora l'idea di poi quando si relazionavano con queste con questo Cristo non è un umano divino beh lì si apre un mondo però in effetti lo è lo è e allora allora Yeshua è stato molto compassionevole ma è stato anche un po' avventato perché la storia del nuovo testamento che si dice nel cristianesimo e nel cattolicesimo cioè che il Cristo ha rinnovato il Dio e l'ha reso un Dio d'amore è vero l'ha fatto ma non l'ha fatto in assoluto perché stiamo parlando comunque di una temporalità eterna quindi non è diciamo non dura per non segue i cicli storici ok? però allo stesso tempo è riuscito in qualche modo a mantenere questa presenza immensa con cui prima un Mosè un Ezechiele dovevano rapportarsi in maniera immediata Mosè ci litigava ok? e lì ecco lì è un rapporto più umano per esempio quello che aveva Mosè con il Dio era un rapporto meraviglioso perché si incazzava proprio con lui diceva ma basta buttava il bastone il famoso episodio della roccia il Cristo invece ha cercato di dargli un corpo ha cercato di dargli una vita qui anche anche per questo motivo quando è nato il cristianesimo sono nati tra i primi fenomeni del cristianesimo ci sono stati i nestoriani hanno cominciato a dibattere ma qual è la natura del Cristo è quella divina è quella umana entrambe no? ci sono tutti questi dibattiti che poi sono nati e si sono protratti perché è praticamente tutto il cristianesimo è basato su questo quando il Cristo si relazionava anche con gli apostoli con la Maddalena era un modo per convivere tutti assieme e mantenere questa comunità questa ecclesia che poi i buddhisti chiamano il sangha la comunità è vero che i buddhisti hanno l'idea di Dio dell'Occidente però l'idea di comunità e di condivisione della presenza che può essere in quel caso del Buddha della buddita anzi c'è quella il Cristo nel momento in cui diventa il Cristo e quindi realizza la propria è riuscito a mantenere in sé questa presenza divina perché in effetti ci si è congiunto però così facendo la presenza divina ha solutizzato anche Yeshua stesso capisci? certo e quindi così facendo ci sono stati si è come immerso e annullato è come se si fosse ha perso la sua singolarità non so invece di mantenersi trasparente aperto è stato letteralmente fissato preso all'interno di questa sfera che da un lato gli ha dato una presenza assoluta e che è perdurata nel corso dei secoli ed è una cosa diciamo un vantaggio perché mantenere una presenza che perdura nel tempo mantiene anche la possibilità della comunità di esperire quella che noi chiamiamo storia adesso se noi possiamo dire esista un passato un futuro è per questo motivo qua perché poi col tempo questa presenza assoluta del dio unico cosa è diventata sono diventate quelle che noi chiamiamo coscienze perché ad un certo punto dopo il rinascimento si è letteralmente con la famosa storia dell'universo infinito e il mundino e con il famoso cogito di cartesio essenzialmente si è secolarizzato quindi invece di essere una presenza divina assoluta che si trovava fuori oppure una presenza divina mistica che si trovava in tutte le cose è la realtà stessa con Spinoza per esempio in quel frangente poi diventa le monadi di Leibniz cioè delle entità che sono sì stanno a una fiancola ma sono chiuse ok è lì il problema allora ciascun il motivo per cui noi possiamo dire oggi ciascuno di noi io vivo le mie cose tu vivi le tue cose è una cosa impensabile se vai fuori da questa storia fuori da questo orizzonte temporale perché lì c'è un altro discorso lì c'è una una trasparenza una plasticità anche a questi fenomeni volgarmente detto molte comunità prima di incontrare la civiltà occidentale si sono fatte ne erano molto vulnerabili si sono fatte ma non nel senso fisico proprio nel senso che si sono fatte coinvolgere moltissimi si sono convertiti senza niente capito è stato loro così un attimo lì poi è interessante il discorso che fa davico penava perché lui è uno sciamano yanomami della foresta amazzonica e è diventato famoso perché ha cominciato a combattere a denunciare tutti i soprusi che hanno fatto sia i missionari sia i cercatori d'oro e i minatori illegali nella foresta che ancora continuano a fare e lui per esempio scrive nel suo libro io ci ho provato a parlare con Teosi che è il nome che dà Dio al Dio occidentale perché lui da giovane è stato educato dai missionari e è entrato in contatto ho provato a evocarne la presenza ho provato a volgarmente detto sciamanizzarlo ma non mi ha mai risposto e gli spiriti sapiri però gli spiriti della foresta che sono gli spiriti del luogo ma anche quelli che vengono no? ereditati invece sì allora ad un certo punto fa questa riflessione indipendentemente da Nietzsche però la fa a fine secolo Dio Teosi è morto forse aiuta ancora la civiltà che si trova dall'altra parte dell'oceano però a me non ha mai risposto quindi per forza deve essere morto e lui dice è bellissima questa cosa perché ti rovescia completamente la prospettiva è chiaro che lo sciamano deve avere una relazione diversa con queste divinità se non appaiono però certi certi mistici cristiani nei secoli precedenti lo hanno contattato e lo hanno ben come dire scritto stati di estasi cioè perché non è forse una cosa legata alla questione culturale cioè come diceva il Pucca prima cioè il fatto che se tu cresci in un mondo imbevuto questa è una cosa bellissima allora posso accendere un un censino c'è una cosa che diceva Joseph Campbell lui diceva c'è una differenza fondamentale tra Oriente e Occidente in Occidente il Dio viene considerato come la sorgente del Sacro in Oriente invece viene considerato una manifestazione del Sacro tra i due l'approccio dell'Occidente è più fenomenologico perché si mantiene a livello dell'immediata percezione di quello che succede quindi il fulgore del Dio mi sta coinvolgendo direttamente quindi diciamo quello deve essere il limite entro cui posso agire entro cui si instaura la mia relazione con il Divino nei confronti dell'Oriente invece ovviamente Oriente per generalizzare adesso però giusto per per aiutarci le diverse manifestazioni degli dei nascono sorgono fanno la loro vita poi rimuoiono nel senso che si dissolvono di nuovo nell'indistinto che noi l'indistinto è poi quello che molti anche mistici chiamano per esempio il nulla di Eckhart l'abisso di Bome Jacop Bome l'assoluto ce l'ho qua Jacop Bome eccolo là allora vedi quello per esempio ce l'ho qua esatto quella è una l'immagine che c'è sulla sua tomba sì sì ma questa è proprio la perfetta cosmologia dell'età dei pesci è quella cioè due realtà che sono completamente sì si uniscono però stanno sono contrapposte ok spiegami il mio tatuaggio perché così almeno ho qualcosa da dire si vede? no mostrano meglio esatto un po' più alto 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 non posso stortarmi il braccio però beh si capisce ci sono due due semi due semicerchi o po' cioè che non formano un cerchio ma quasi questo è un mandala che disegna lui stesso però se un mandala è disegnato in questo modo è perché ti sta dicendo guarda c'è una separazione il mandala è una cosmologia un universo che nasce e di solito anche negli aspetti più chiamiamoli esoterici va del buddismo o delle correnti buddiste meglio ancora il mandala rievoca la presenza della figura buddica perché nel mentre che lo stai disegnando lo stai accogliendo in uno spazio che aiuti a far sorgere sì così che la a evocare così evocare esatto però sai evocare fa un po' mago invece la presenza di mora ecco di mora nel palazzo di mora nel mandala no evocare perché faccio questa distinzione perché di solito sciamani e maghi vengono messi sullo stesso piano invece sono molto diversi i maghi se vogliamo tenere fede alla storia di Zaratustra con i maghi persiani che di solito vengono considerati l'origine dei maghi come figure lì proprio perché c'è una presenza assoluta che inizia a farsi strada cioè Auro Mazda e quindi dato che Zaratustra all'epoca cominciò a rifarsi ad essere quasi ripreso solamente da questa presenza che poi per compensare questa assolutezza genera un'altra presenza che si chiama Ariman e che Zaratustra poi considera come il malvagio per eccellenza ora il punto è lo sciamano agisce al di fuori dell'idea di sottomettere o soggettare qualcosa al suo potere nel complesso perché dicono il complesso perché ci sono dei momenti in cui lo sciamano deve dare prova di forza e quindi lì per esempio combatte con lo spirito combatte con il dio e se riesce a vincere il dio di solito diventa anche suo alleato lo spirito diventa anche suo alleato il mago invece parte dal presupposto che non si deve preoccupare tanto di questa cosa perché è come se partisse da una base stabile lo sciamano è sempre aperto a un ciclo più ampio che poi si cerca di nominare in qualche modo come per esempio il Tao oppure anche il grande spirito il Waka Waka che è letteralmente l'esistenza intera che si muove da sé e lo sciamano è tutt'uno con questa esistenza poi quando pratica può succedere che direzioni questa esistenza e quindi chiami a raccolta tutte le comunità con cui convive il mago parte dal presupposto che lui può già esercitare una volontà propria e questo sia nel caso del mago diciamo nero quindi stregonisco sia nel caso del mago bianco anche se nella magia naturale sia un po' diverso perché nella magia naturale sia rinascimentale un po' diverso perché lì per esempio si intende mago in senso un po' più sciamanico ok? leggermente più sciamanico però comunque si c'è l'idea del mago che parte da una propria volontà direziona la volontà e quindi può evocare c'è un passaggio del Tao Te Ching meraviglioso che dice questo cioè quando il Tao viene attinto c'è solo il Tao quando il Tao non viene più attinto c'è il T il T è etimologicamente una presenza una forza un potere che hanno tutte le cose per il semplice fatto che sono se stesse allo stesso tempo ovviamente non sono se stesse nel senso che diamo di solito a questa parola cioè che sono singole sono se stesse perché emanano una particolarità che ha un effetto anche sulle altre ma che però è sempre aperta nei confronti del Tao solo che quando il Tao non viene più attinto sorge il T perché? perché allora ti stai concentrando solo sulle particolarità e sulle cose e sugli esseri viventi che sorgono spontaneamente dal Tao ma non stai più seguendo l'informe l'indefinibile no? non stai più seguendo i processi stessi dell'informe cioè l'informe che anzi meglio ancora l'indefinibile che manifesta se stesso quindi quando il Tao quando c'è il Tao quando il Tao viene attinto c'è solo il Tao quando il Tao non viene più attinto c'è il Tao questa è la differenza come me lo descrivi questo? lo so che non ti piace interpretare i simboli però no allora questo è essenzialmente due mondi due realtà se non sbaglio quella bianca era la realtà più celeste quella nera era quella più infera che sono completamente separate cioè non si parlano vengono perché? perché si uniscono soltanto in quel punto di congiunzione che sarebbe tra parentesi dovrebbe essere almeno o la nel caso di Bome dovrebbe essere il Dio la presenza assoluta riesce a emergere le due parti però nel caso più specifico del veggente si potrebbe mettere anche il veggente la figura del veggente si potrebbe mettere in quel punto là però dato che sono due semicerchi che si dipanano non sono in comunione non sono in armonia capisci? quello è il problema ed è tutto questa è un'interpretazione per esempio che da Jung oppure se vedi anche Blake William Blake ha dovuto spendere molte delle sue forze come poeta al matrimonio dell'inferno del paradiso perché? perché non c'era una armonia fra le due parti se Blake fosse nato in un'altra comunità che non faceva parte di questa cosmologia ovviamente non avrebbe dovuto preoccuparsi di mettere assieme queste due realtà perché sono già unite al di fuori questa cosmologia è normale e il cuore che sta in mezzo? che messaggio è ovviamente? il cuore che sta in mezzo questo sai c'è una croce e un cuore questi due semicerchi beh la croce è la quaternità si vuol dire la quaternità che unisce il cuore perché è strano c'è un simbolo pop che adesso abbiamo l'emoji del cuore un'interpretazione ce l'ho io allora praticamente quello lì è come dire un cerchio che necessita di congiunzione però questa congiunzione non è possibile se uno segue la logica dello spazio quindi in un certo senso è il superamento magari qui il cuore può essere utile il superamento quindi porre un nuovo paradigma per fare in modo che superando lo spazio come concetto logico i due in realtà si possono toccare che poi è un po' l'effetto pacman no quella cosa lì l'unione attraverso il centro sì cioè in pratica l'unione avviene nel l'unione avviene nel sopra e nel sotto dei due semicerchi che per la nostra logica non è possibile ma se si supera questa logica i due sono già in contatto in realtà sono già un cerchio e quindi come dire perfetti no? a modo loro sì in effetti il cuore sì 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 in effetti il cuore è il vabbè silly me è molto abusato e poi il concetto di no ma hai ragione mente cuore no? esatto no hai ragione infatti nel te c'è c'è il carattere di cuore per esempio il sin e poi il cuore inteso come centro sì come centro veggente da cui poi si può partire per uscire fuori da sé quello sì quello sì il cuore che vabbè gli egizi non lo toglievano per questo motivo voglio dire quindi eh sì assolutamente sì poi se non sbaglio quel mandala è stato disegnato verso cosa era il 1500 o il 1600 1500 1500 fine 1500 eh mi pare di sì perché mi ricordavo che stavo proprio nel mezzo dell'epoca ecco anche questo è significativo no sul fatto dei mistici poi per tornare a quel discorso Ele Mirzola dice una cosa interessante nel suo dal tamburo mangiare dal cembalo bevi dice il mistico è un veggente che non che non che la comunità non riconosce più quindi è costretto da solo a vivere questa apertura questo ratto mistico facendo solo affidamento sulla presenza divina stessa sulla sua propria apertura però proprio per questo motivo dato che siamo all'interno dato che isolato dalla comunità e dato poi che ci troviamo all'interno della presenza del Dio unico il mistico arriva all'assoluto attraverso il Dio allora succede per esempio la differenza fra le mistiche occidentali un po' diverso il discorso per quelle medio orientali perché là è un'altra questione però anche se c'è sempre questa presenza però man mano che fai questo passaggio vedi che il Dio viene utilizzato come modo per dissolversi nel tutto però il tutto stesso anche nel suo aspetto più ineffabile e innominabile continua ad essere riferito come al Dio unico quindi il Dio unico in quel caso non è più presente come Dio però continua ad offrirti il linguaggio per poterti relazionare perché anche nei suoi aspetti più innominabili ci si continua sempre a riferire con la parola lui e questo per esempio vale molto spesso anche nella nello Zohar nel libro dello splendore vale nella anche per certi versi sì no vale anche nella mistica neoplatonica dei sufi del 1100 1200 quindi anche Ibn Arabi insomma ci sono tutte queste questo linguaggio c'è ancora nel perché essenzialmente c'è ancora una presenza anche se questa presenza non c'è più c'è ancora nell'ambito orientale invece no cioè c'è una spontaneità un riconoscere che c'è la base nello Zohar per esempio si parla della base la grande perfezione perché perché è un'apertura totale attraverso cui non c'è nessuna essenza quindi la base di base è innominabile perché è totalmente vuoto è vacuità pura e anche per questo motivo non c'è bisogno di preoccuparsi di dover attingere ad un modo per poterla realizzare perché si tratta semmai di scrostare il fango dalla perla no questa è anche un'immagine meravigliosa che usa lo Zocen la sfera trasparente che risplende perché può che risplende non tanto di luce propria ma risplende perché fa passare tutte le luci attraverso di sé essenzialmente una sfera prismatica e proprio per questo motivo grazie lo scrostamento sì ma lo scrostamento non è un lavoro che fai in attivo è un lavoro che fai di rimozione perché tu devi togliere tutti gli aggregati dalla tua percezione ok per scoprirti da sempre spontaneo è quello il discorso sì sì e per esempio ti faccio un esempio magari un esempio personale quindi non avrà lo stesso impatto però mi sono reso conto che nella vita io non ho mai praticato uno yoga nel senso di mi metto lì e faccio le asana no tutte quelle cose però mi rendo conto che spontaneamente ho sempre praticato determinate forme fisiche o anche non lo so degli stretching queste cose qua che richiamano quelle forme lì perché perché se uno invece di rifarsi a qualcosa di esterno si comporta ascoltando quello che già c'è che può provenire anche non lo so da una sensazione da un semplice concentrarsi e quindi man mano togliere questa attenzione verso l'esterno concentrarla non su di sé però sai su questa strano questo strano campo che noi chiamiamo il seno in realtà è un campo vuoto attraverso cui passano tante cose questa è un'altra immagine meravigliosa pian piano si nota questa cosa e anche se per esempio ci sono delle piccole abitudini oppure delle immagini come dei sogni una cosa che dico spesso è che poi voglio dire lo hanno detto tutti quanti quindi magari sono l'ultimo deficiente però guardate prima i sogni se c'è qualcosa lì perché di solito il sogno che cos'è è già un'entrata nel mondo immaginale ed è un'entrata spontanea quello che si vive nel sogno è quello che si è vissuto prima della storia prima della nascita della coscienza man mano che ci si è rafforzati poi questa dimensione non è scomparsa è stata semplicemente ottenebrata perché la coscienza ha cominciato ad essere un po' più rumorosa ha cominciato ad essere un po' più luminosa è lo stesso discorso di quello che è successo con il monoteismo una presenza così assoluta ha reso tutte le altre possibilità divine nere allora ma infatti posso dire qualcosa mentre dicevi questo mi risuona tantissimo sono sicuro che ti interesserà e non sono l'unico che ha avuto questa esperienza provando l'unica volta nella mia vita in cui a gennaio di quest'anno ho provato una sostanza psichedelica l'LSD senza aspettarmi nulla ho studiato un po' le cose abbiamo invitato un sacco di esponenti del mondo della divulgazione sugli cosiddetti enteogeni come si chiamano oggi e diciamo dopo le prime due tre ore ho iniziato proprio ad avere chiare delle visioni come dire simboliche archetipiche che non ho mai visto nella mia vita non mi hanno mai interessato vedi io ci ho tatuata una roba cristiano mistica e invece ho visto cose quasi che ricordano una mitologia tipo l'araba fenice piuttosto che uccellini che lasciano colori arcobaleno e si muovevano da soli si muovevano da soli e poi nella prima parte proprio geometrie quasi maia azteche e poi uccellini poi ho finito tutto questa roba ho detto questa roba qua non l'ho mai cagata invece poi mi sono guardato allo specchio la sera ho visto quest'altro tatuaggio che ho qua e ho detto no cazzo io ce l'ho un simbolo azteco sul corpo e tra l'altro ho anche delle ali però io vedevo delle ali più mose questo è un simbolo di guerra questa è un'aquila invece i miei erano degli uccelli più più da eden proprio e quella roba lì dei colibri no proprio tipo araba finice sai quelli piumosi tutti i piumosi paradisia cosa faceva l'araba finice eh allora non l'ho vista in realtà l'ho percepita anche questa è una cosa interessante io so che c'era ok ma era una era innanzitutto la visione non ti apparsa no è stata una visione strana che ovviamente non è una visione come dici ah ho visto la madonna no era una visione interiore che dopo infatti appena ho finito ho scritto un lungo si chiama trip report dove tu scrivi perché sennò te lo dimentichi l'ho percepita quasi danzante dietro un velo quindi un sipario però sapevo che c'era ma non la potevo vedere è più o meno quello che ho vissuto io cioè le allucinazioni non sono come tale immagini sono un intanto succedono molto di più nella periferia dello sguardo che tu poi ti giri e non la vedi più e cioè io anch'io avevo scritto perché sennò tante cose te le perdi cioè è una marea di roba che cambia ogni 10 secondi e cioè dicevo invece di vedere un'astronave tu vedi un'astronavizzazione di un qualcosa e comunque per ricollegarmi io nel mio trip ho visto tutte cose che comunque facevano parte della mia cultura ho visto i castelli di Escher ma alla millesima potenza cioè no io mi sono sorpreso perché ho visto i mandala ripetuti all'infinito perché ce l'avevo sulla maglietta poi guardando un podcast che è Joe Rogan in America anche lui che racconta ogni tanto le sue esperienze lui dice che anche lui ha avuto delle visioni mistiche ma lui non è uno che come te legge tutti i giorni i simboli dice ma è questa roba qua io il mito dell'araba fenice non lo conoscevo cioè sapevo che cos'era sì dalla morte conosci la fenice però però poi me lo sono andato a studiare dopo ma chissà perché è venuta fuori questa roba cioè ed è quello che dicevi tu cioè il fatto che il monoteismo ha creato una sorta di stato di veglia permanente che ha obnubilato tutta una serie di cose che preesistono noi cioè che esistono esisteranno ma che sono state veramente messe in ombra dal substrato di coscienza storica culturale secolarizzato cioè non so come dire no e qui facciamo un altro salto allora e famolo va famolo però finisco col dire che il messaggio finale del mio trip era che Dio non esiste e che Dio cioè non c'è bisogno di Dio perché questa roba fa tutto basta basta questo questo sarebbe cervello cervello ecco ora no è bellissimo il messaggio finale del mio trip cioè ora pensa a questo è il primo passo nelle visualizzazioni nelle nelle meditazioni di visualizzazione è il primo passo perché poi pian piano se perseveri in questa cosa questa è una cosa meravigliosa perché è bene partire da queste immagini spontanee che sono già apparse nella nostra vita e tornarci e riviverle perché poi ci si rende conto non siamo noi che ci siamo ritornati ma stiamo semplicemente dando di più attenzione quindi ci stiamo relazionando ai loro confronti questa cosa di mandale infinito è meravigliosa perché esattamente quello che hanno vissuto i primi monaci e filosofi buddhisti dopo la venuta di Shakyamuni hanno cominciato a chiedersi ma se il Buddha è venuto a salvare tutti gli esseri dal ciclo karmico può essere mai venuto solo una volta? allora sono iniziati tutta una serie di le classiche voglio dire filosofie speculazioni anche però sono tutta una serie di cose che poi hanno portato a questa questo sutra che si chiama il Malakirti Sutra e in questo sutra Shakyamuni che sta impartendo una lezione ai adepti ai monaci sta parlando del fatto che questo mondo che noi stiamo vivendo proprio questo mondo qua è la sua terra pura è una terra pura uno dei suoi discepoli dice maestro ma come è possibile che sia una terra pura se ci sono tutte queste sofferenze tutte queste distruzioni eccetera allora Brahma il dio Brahma quindi già il fatto che perché Shakyamuni non sta impartendo lezioni soltanto a dei monaci sta partendo lezioni a dei bodhisattva sta partendo lezioni a dei deva che sono divinità quindi anche questa immagine del Buddha secolarizzato che è stata tanto presa bella presa il Buddha che fa solo meditazione stupidaggi cioè c'è tutta una cosmologia dietro al Buddha che è meravigliosa in quel frangente perché ti dicevo questa cosa perché in quel frangente il l'adepto dice sì ok Brahma tu la vedi però io no quindi come è possibile maestro secondo me questa terra non è pura il Buddha che fa Shakyamuni poggia il piede per terra e in quel momento gli manifesta tutta la terra pura nella sua purezza e in quel momento gli manifesta anche i tre per mille quindi infiniti mondi che esistono le infinite terre pure che esistono e tutti i vari cosmi in cui altri Buddha stanno impartendo la dottrina quindi è una cosmologia enorme un po' come questa immagine che mi hai detto che mi hai fatto dei mandala che si ripetano infiniti che mi ha fatto evocare questa cosa e lui dice questa terra è pura però appare impura soltanto perché ci sono ancora degli aggregati da rimuovere gli aggregati mentali concettuali da rimuovere in realtà questa terra è impura perché deve aiutare le persone a risvegliare la propria essenza di Bodifatta e di Buddha ma vedi che questa terra vista con questi occhi che sono gli occhi del Buddha è pura allora questa è la meraviglia questa cosa che mi hai detto è meravigliosa infatti una delle cose che è più comune quando hai queste esperienze è l'ambivalenza della vita quella che hai detto adesso cioè il fatto che ciò che noi in questo stato di coscienza vediamo come opposto non lo è affatto anzi è quasi alleato cioè l'opposto diventa alleato per esempio una cosa che mi sono scritto e che caspita mi piacerebbe poter vivere sempre ma che è difficilissimo è il fatto caspita ho intuito quanto siano rapportate sofferenza e beatitudine cioè tanto quanto io sono in grado di soffrire tanto quanto sarò in grado di essere beato non posso partire da zero a mille no io devo andare a meno mille se voglio arrivare a mille devo andare a meno 2000 quella roba lì mi è arrivata qua e poi assieme quanto è spettacolare questa cosa cioè quanto sarebbe noiosa una vita che non prevede come tutte le narrazioni c'è sempre il nero è ovvio che è così e sono alleate e nemiche però a un livello di coscienza ordinario neanch'io voglio fare un incidente fuori quando piglio lo specchietto o mi fanno la truffa dello specchietto ma quando sono in un alto stato di coscienza so che quella sfiga che ho avuto quella morte che ho dovuto quel lutto che ho avuto quel fallimento quella cosa sono forse a volte persino un dono per poter poi un'occasione ma qualche volta sì qualche volta sì esatto no no certo però a tutti capitano malattia vecchiaia sofferenza mi spiace ma sai per esempio mi ricordo un utente su internet indiano che scrisse era un ragazzo giovane questo penso avesse 15 o 16 anni scrisse vi chiedo aiuto perché io sto vedendo sempre Kali la dea Kali mi appare in continuazione la dea Kali ogni volta che c'è un incidente vedo lei cosa devo fare mi perseguita e sotto ovviamente gli dicevano guarda in realtà vedere la dea è un dono è chiaro che appare quando ci sono incidenti perché è lì che deve apparire vuol dire il mondo di Kali non è il mondo di allora semplicemente è vero che il fatto che ci sono sofferenze ci sono beatitudine questo sì poi quando diventano delle immagini queste diventano dei vissuti e lì nel vissuto immaginale nel chiamiamolo mito ok nel mito che ne nasce l'immagine fiorisce e si e si si vivifica anche ma questa cosa è la finice meravigliosa è lo spirito mercuriale è la quintessenza mercuriale per eccellenza la finice è proprio la guida verso gli altri mondi il crisomale è un aspetto per esempio sono tutti veicoli sì sono tutti beh oddio veicoli un po' bruttati però si sono veicoli sono sono cavalcature ecco sono cavalcature che e compagni qualche volta anche amanti perché no che conducono verso gli altri mondi e lo fanno in maniera amorevole sì questa è la cosa meravigliosa eh sì quella è la cosa bella che senti tanto sì cioè che lo fanno in maniera amorevole perché ci sono vari modi per essere condotti certo allora ci sono quelli che magari lo vivono in maniera proprio terribile è tipo al monastero zen per fare un paragone sai che quando a un certo punto se non hai la postura giusta tu chiedi ah no quello è un altro al maestro che ti tira la bastonata quello ti conduce ma con una bella bastonata quello è allora sì diciamo quello che è un onore riceverlo è un onore è un onore cioè se il maestro ti tira la bastonata in realtà sei tu che lo chiedi mi hanno spiegato perché si medita a spalle al maestro che parla non è il maestro il cerimoniere adesso non so qual è il nome in giapponese gira intorno con il bastone e quando tu ti senti o troppo carico o troppo scarico cioè quando non ti senti centrato ma ti stai meditando la bastonata della cerimoniere ti aiuta a rimetterti in bolla però la meditazione che dici è quella zazen zazen bravissima ok io non pratico quella io pratico la meditazione trascendentale di marishi però lì ho provato quella ah ok ho vissuto delle bellissime sensazioni cosa ne pensi di marishi sai in realtà non lo conosco non l'ho approfondito so che tutte queste queste diverse pratiche e forme di meditazione possono essere riunite perché in effetti diciamo l'intento sarebbe quello cioè riunirle così come ci si può anche muovere tra diverse scuole buddiste se sei nel cen oppure nello zen puoi anche muoverti non lo so nel nel Vajirayana puoi muoverti nel nello zazen puoi muoverti nel ninpa puoi muoverti nello nello Shingon diciamo se uno vede poi tutte le ramificazioni che si sono venute a creare nel corso dei tempi sono diverse pratiche che si compensano vicenda quindi magari quindi magari per esempio nello Shingon che viene chiamato il no l'ho detto il fatto il buddismo esoterico così nello Shingon c'è una forte componente mandalica e figurativa perché lì proprio si è chiamato a disegnare si è chiamato a immedesimarti a meditare con la figura all'interno del mandala e poi là ovviamente entriamo in tutta la cosmologia buddista che è meravigliosa con il buddha primordiale e le cinque emanazioni e il anche questo per esempio no? questo che dici la meditazione finché viene vissuta solo come un modo per acquisire la consapevolezza del vuoto e la vacuità del sé per essere non dimoranti va bene però c'è dell'altro di solito i buddhisti dicono sì ok però l'altro è riservato per quelli che fanno l'iniziazione eccetera è vero è vero all'interno del lignaggio è vero però è anche vero che l'immaginazione nel senso più ampio del termine non è legata all'iniziazione ok l'immaginazione è qualcosa che avviene da sé iniziazione o no sarebbe utile un po' come fanno in alcuni ecco per esempio il Kala Chakra l'iniziazione al Kala Chakra è un'iniziazione che non viene fatta soltanto nel privato ma viene fatta con tutta la comunità è aperta anche nello Shingono ci sono delle iniziazioni private ma ci sono anche quelle pubbliche uno dei problemi di oggi per esempio è che non si fanno più iniziazioni pubbliche a parte che proprio il rito di iniziazione è scomparso però non si fanno più iniziazioni pubbliche perché le autorità che dovrebbero imporle le hanno perse questa è pure un'altra cosa che minacciava cioè minacciava piangeva tanto Campbell Joseph Campbell diceva un po' questa cosa però la veggenza quindi ti porta solo fino a un certo punto alla meditazione cioè dell'altro che però nell'epoca contemporanea cioè facendocela a casa sai cosa non so come in realtà non si è veramente mai soli quindi anche se la si pratica da soli si apre in uno spazio extra temporale extra spaziale che ti conduce comunque altrove ci si può incontrare anche nei sogni perché no cioè è assolutamente possibile è chiaro che il sogno è difficile da interpretare una volta che si svegli e sarebbe anche un problema cioè sarebbe anche un un controsenso un controsenso è fuori dall'ordine lineare del tempo che in realtà proprio perché oggi l'abbiamo perso lo possiamo ne siamo ancora più consapevoli che non c'è perché non c'è mai stato ce lo siamo dati per questo ti dicevo la meditazione è essenzialmente una pratica nel suo aspetto più ampio è una pratica per entrare in contatto con queste realtà in maniera più sicura perché è chiaro che non tutti vengono chiamati non tutti possono soprattutto quelli che vengono chiamati in alcune civiltà che non riconoscono queste cose non possono sostenerle con lo stesso modo per esempio di chi subisce uno smemoramento rituale che lì è vero uno dice lo sta vivendo in sogno oppure lo sta vivendo in visione però lo sta vivendo ci sono dei sogni sfido chiunque a dirmi ci sono dei sogni in cui hai percepito che stava non lo so stavi perdendo dei denti oppure stavi morendo trafitto male stavi soffrendo in quel momento quella sofferenza è reale poi quando arrivi qua ti rendi conto che non era una sofferenza che era legata a questo tipo di realtà però nonostante tutto tu l'hai vissuta ok allora il discorso è quando è così difficile entrare in contatto con queste forze perché veramente è come lanciarsi in un in un caos totale ok è chiaro che ci sono dei percorsi privilegiati oggi per esempio il fatto che dicevamo cioè il fatto che i maestri non ci sono più togliendo i maestri hai tolto anche la possibilità di praticare questi percorsi privilegiati allora o si cade vittima della presenza dell'influencer di turno oppure si cade vittima della propria incapacità di riconoscere queste cose chiaro e quindi ti fagocitano e cade vittima della tua stessa immaginazione e lì è chiaro che poi diventano cose problematiche c'è tutta una storia la storia della follia di Michel Foucault per esempio c'è tutta una storia che ha costritto la civiltà moderna nel suo momento peggiore a rinchiudere tutte queste persone che venivano considerate a torto psicotiche schizofreniche non perché non ci sta quella componente lì ma quella componente lì lo sciamano e il maestro ti aiutano a direzionare a sublimarla no 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 non sublimarla a direzionarla a direzionarla diventa parte di te perché lo è sempre stata e quindi tu entri in armonia con quella con quell'apertura è chiaro che sarà doloroso perché le aperture sono sempre dolorose tranne quando sei nato e sei proprio nato diciamo amato dagli dèi e in quel caso lì è un altro discorso però anche lì ci sono delle cose che vengono spontanee tipo la danza l'arte visiva la poesia sono tutti modi per esprimere queste realtà e il teatro ovviamente assolutamente te ne parlo perché ovviamente praticando la meditazione da tanti anni mi incuriosisce ma vedendo il macro trend che è diventata mi interessa tantissimo quello che dici cioè il fatto che comunque meditare svincolati da una tradizione da una scuola da un maestro da un guru da uno sciamano esatto attenzione potrebbe aprirsi traduco quello che hai detto o apri un canale entrano dentro presenze di qualsiasi tipo esatto perché in qualche modo apri un canale oppure apri un canale non ci capisci una mazza e ti perdi l'opportunità magari di fare un percorso che potrebbe aiutarti a crescere oppure peggio diventa un qualcosa che non riconosce e quindi diventa una sofferenza una sofferenza ah certo e lì si può parlare di sublimazione perché magari inizi a sentirti distrutto depresso ovviamente oggi abbiamo tanti motivi per essere così perché non è soltanto però appunto tutta questa cosa viene ricondotta a te poi diventa un modo per andare oltre è lì che poi è utile la guida di questi di questi esseri perché anche loro amano guidare amano relazionarsi con noi lo so adesso c'è un cambio di prospettiva parliamo dalla prospettiva del divino parliamo della prospettiva dello spirito nei confronti dell'umano cioè che lui sta cercando di parlare con noi sì magari vuole dire qualcosa magari vuole chiederti qualcosa ci sono dei rovesciamenti di prospettiva che sono necessari adesso perché noi partiamo da una prospettiva che crediamo basata però allora dicevo un po' un altro passaggio di Roberto Calasso nel Cacciatore Celeste poteva darsi il caso saprò questa formula poteva darsi il caso che quella presenza quell'animale quell'orso quel corvo non fossero un orso un corvo potevano essere un potente signore degli animali potevano essere un un antenato potevano essere un defunto potevano essere un altro sciamano che ti stava attirando e quindi tu finivi male poi ancora adesso per esempio la cosa bella una delle cose belle che dice Paolo Pecere nel Dio che danza non so se vi è capitato di leggerlo ve lo consiglio comunque lui ha viaggiato per molto tempo nel corso dei dieci anni e ha viaggiato in America ha viaggiato in Asia in Iran ha viaggiato in Amazzonia ha viaggiato un po' in queste zone e lui essenzialmente dice noi siamo l'unica civiltà che non si preoccupa di relazionarsi con queste forze l'unica è chiaro che ci sono dei motivi per cui questo è successo e sono dei motivi che arrivano ancora prima della nascita della civiltà moderna per questo dico andiamo ancora più indietro torniamo all'origine del Dio perché così aiutiamo anche il Dio stesso a guarire e quello è il punto è un'alleanza che va risaldata è una trasformazione che va risaldata certo perché poi nell'ambito degli dèi e non solo quello non ci sono delle relazioni etiche ci sono delle relazioni sagge guidate lì poi diciamo c'è la la discriminazione della della realizzazione cioè essere così in armonia che sai che cosa deve succedere anche se sembra essere un'azione troppo violenta o problematica uccidere un Dio non deve essere per forza qualcosa di negativo Nietzsche diceva noi l'abbiamo ucciso e ci siamo e come ci laveremo del suo sangue sì però poi dopo che cosa succede che iniziano a venire fuori tutte queste personalità cioè non persone tutte queste presenze che Nietzsche inizia a incorporare è chiaro che non c'è soltanto l'aspetto diciamo più immaginale c'è anche l'aspetto fisico la famosa malattia non mi ricordo il nome tecnico però la famosa malattia ereditaria che aveva però in quel modo attraverso quella porta sono entrati l'anticristo sono entrati Dio tutte le cose con cui si firmava le parole con cui si firmava la stessa cosa vale anche in altri ambiti cioè uccidere un Dio dargli una serena morte noi oggi stiamo assistendo ad un Dio e quindi a un sistema perché sono la stessa cosa è soltanto che la forma secolare del Dio diventa la società e il sistema di riferimento culturale ok diventa il linguaggio in cui operiamo anche per questo motivo stiamo facendo un lavoro di rinnovamento del linguaggio perché serve a aprire le porte sul piano filosofico possiamo pure dire intellettuale per carità però serve essenzialmente ad aprire le porte per riuscire a uscire fuori da queste barriere che ci siamo creati una cosa che dico molto spesso togliamo di mezzo parole come animismo togliamo di mezzo parole come sciamanismo il sciamanismo la detesto fa schifo assolutamente è un abominio perché non è mai esistito il fatto che una civiltà religiosa consideri religioni tutte le altre vie che religioni non sono è un abominio perché vuol dire che sei arrivato al punto in cui non riesci a vedere le cose così come sono un altro libro di Herb Klerk e non riesci a uscire fuori dalla presenza della tua della tua dita in questo caso del suo cadavere questo modello di società deve rinnovarsi finché abbiamo questi vecchi senili al potere lo dico da 32enne ma non soltanto è proprio una questione finché abbiamo questi vecchi senili al potere è chiaro che non c'è rinnovamento questa è forse una delle poche società dei pochi momenti nella storia in cui i giovani trentenni quarantenni dovrebbero prendere tutti quanti il posto in massa di quelli che oggi sanno i presidenti delle cose e la stessa cosa vale per le autorità ecclesiastiche deve esserci un rinnovamento totale già per esempio no riunire questa questo falso dualismo fra le conoscenze esoteriche chiamate esoteriche con quelle più immediate è un modo per risanare questa cosa anche perché di fatto se tu metti i vangeli gnostici con i vangeli canonici non è che hai chissà fatto che cosa sei semplicemente arrivato a zero perché noi adesso stiamo a meno di zero stiamo a zero perché se metti queste cose assieme hai praticamente non dico un buddha però quasi e quello è il punto da lì poi è quando apri tutto questo invece di pensare le chiese come alla messa oppure a dei luoghi che devono essere ritrovati che devono essere modificati per farci lounge bar e queste cose qua abbiamo visto tutti che è successo a Notre Dame ha preso fuoco e subito nonostante non ci fosse nessun motivo è stato un incidente però nonostante non ci fosse nessun motivo per dire oh mio dio il patrimonio culturale non quelle cose là tutti hanno percepito in quel fuoco è la rovina dell'occidente siamo in un momento uno di crisi di cattoli sì ma non vuol dire che il fuoco distrugge il fuoco trasforma un'altra cosa Notre Dame non voleva restare chiesa gotica o comunque lo stile che è voleva ritornare ad essere il tempio che c'era prima perché se non mi sbaglio si sorge su un'isola dove esatto sono state ritrovate civiltà esatto quindi la stessa cosa vale anche per tutti questi palazzi del potere che sono stati costruiti dove prima c'erano altri palazzi non è che per forza bisogna tornare indietro perché non è una questione di dire preferiamo un dio piuttosto all'altro questo è ancora il monoteismo a parlare vuol dire riconoscere che c'è bisogno di un rinnovamento ciclico e quindi operare in accordo con il bisogno di trasformazione invece di rallentarlo è un po' diventato una macchietta me ne rendo conto ma quando massimo cacciari parla del catecon del dire il papa non deve fare catecon quelle cose lì sta dicendo essenzialmente sbrigatevi perché state ritardando qualcosa che è inevitabile accogliete all'interno di quello che è la sfera del sacro tutte queste realtà perché tanto nel frattempo ne stanno sorgendo altre di cosmologie il problema è quando queste cosmologie vengono assorbite da quella che noi chiamiamo la macchina dell'immaginario cioè le serie tv i film fumetti videogiochi diventano opere d'arte ma poi finisce là il punto è cominciare a togliere anche questo perché si diventano un modo per seguire ancora lo spirito del tempo è chiaro voglio dire se una ecco prendi per esempio Matrix non l'ultimo non so se l'avete visto io mi sono rifiutato no l'ultimo appena uscito le resurrections l'ultimo io mi sono rifiutato intanto perché già il secondo e il terzo avevano rovinato il grande lavoro fatto lui è quello che dice no la trilogia originale no no solo il primo solo il primo quella trilogia non dovrebbe essere una trilogia poi il quarto avevo letto recensioni che ho detto no le voglio stare lontano invece che ci siamo persi Alessandro il ritorno della Sofia allora lo so dici tu spoiler e tutto il resto però sti cavoli nel nuovo Matrix Trinity a parte che c'è tutto un discorso di metacinema meraviglioso nella prima metà in cui essenzialmente la Wachowski no Wachowski dice voi mi avete costretto perché è solo una delle due adesso è solo una sì lei ha detto essenzialmente mi avete costretto a fare questo film e quindi ve la meno come dico io e c'ha ragione c'ha ragione allora tutta la prima metà è tutta una una metastoria in cui Neo deve ritrovare deve ritornare ad essere consapevole di chi era una nuova versione di Matrix che viene prima presentata come una simulazione nella simulazione quindi prima c'è la simulazione nella simulazione poi c'è la nuova versione di Matrix e poi c'hai questo rapporto di ricordo di chi sei no poi dopo tutto quello che è successo essenzialmente a parte che c'è una comunione di macchine e spiriti animali meravigliosa e questo vabbè è abbastanza in realtà abbastanza diffuso nel nella fantascienza e anche per esempio molti artisti lo riprendono ed è una cosa sacrosanta perché e quello per esempio è un è una cosmologia che sta nascendo è chiaro che finché lo reputi soltanto come design o come arte da Instagram non c'è hai capito però le possibilità ci sono nel nuovo cammino dell'eroe questo per esempio è anche il libro che avevo recensito per Rolling Stones il risveglio di Neo di Paolo Riberi nel cammino dell'eroe ci sta adesso tutto una nuova un nuovo cammino che non viene fatto più da una singola persona viene fatto in due perché anche Trinity adesso sta risvegliandosi ad essere una delle lette ok il risveglio di Trinity essenzialmente è il ritorno della Sofia così come ne parlava Enrico Orben nel suo manuale della Sofia la Sofia chi è? è la manifestazione più pura e pristina della Dea della Grande Dea tra tutte le diverse manifestazioni che sono in cui non è solo l'amante ma è anche la l'incarnazione della perfetta saggezza molti mistici per tornare anche discorsi di prima molti mistici si rifanno per esempio alla sposa mistica è uno dei modi in cui la Grande Dea è una sposa mistica dei grandi mistici è Sofia è stata Sofia almeno sia nella tradizione medio orientale che in quella più occidentale nostrana è meraviglioso perché alla fine tu hai tutte e due che si sono pienamente risvegliati e quindi adesso la cosa che ti sta dicendo non è più una questione di eroe è una questione di eroi entrambi e poi c'è la figura del bellissimo c'è la figura dell'analista Neil Patrick Ernst esatto che se la gioca benissimo perché ha fatto una recitazione straordinaria bellissimo che ha gli occhi blu come quelli delle pillole blu quindi ti vuole tenere affossato in questa percezione e vuole psicologizzare tutto anche quello è l'auto scuro diciamo della psicanalisi o se vogliamo anche della simbologia non solo della psicanalisi ma della simbologia ricondurre tutto a un significato così ammazzi invece arrivano poi Neo e Trinity e ti dicono è no bello mio noi siamo più liberi di te e questa realtà la facciamo come diciamo noi il che significa la facciamo in armonia con tutti gli altri perché poi non è un capriccio quando sei risvegliato in quel modo lì operi in accordo con chi sono gli altri no? e vabbè l'analista è pure un occhiolino non troppo riflesso al fenomeno Peterson ah sì assolutamente perché scusa è un dibattito enorme no? cioè è diventato una figura enorme sì e lui proprio incarna quel ruolo là Lavakoski poi è pure una persona trans quindi ci sta no? ma certo che l'abbia inserito direi di sì direi di sì se non l'ha inserito volutamente Peterson comunque ha finito per diventare l'incarnazione di quella cosa e poi è decaduto perché non è uscito fuori dal infatti poi anche quando lo vedi quando lo vedi nelle ultime interviste inizia a dire è stanco è distrutto è ammazzato vabbè certo lo vedi che quando parla della sua dipendenza dai psicofarm sì però sai è proprio come se fosse svuotato sì perché quando lui piange l'ultima puntata che ho visto da Joe Rogan si è dovuto fermare due o tre volte perché piangeva beh la sofferenza che lui ha descritto per via di quella sindrome che era stata causata cioè è una roba che dici come hai fatto a non morire gliela hanno detto anche i dottori però sai quella sofferenza lì proprio perché è quello il problema Peterson ti fa capire che c'è un circolo vizioso alla radice che lui stesso non ha compreso bene nonostante tutto perché è ancora troppo mentale la sofferenza resta bloccata a quel livello lì perché non non è andato al di là dell'interpretazione a parte che lui riprende dei miti che sono vecchi ma non vecchi nel senso che fanno vecchi nel senso che ti portano ancora un ordine antico la sua scusa era sì però abbiamo bisogno di trovare qualcosa per ridare forza a quest'altra metà che sta soffrendo in questo momento quella maschile quella maschile sì però se mantieni l'uomo sulla base se mantieni la l'immagine della virilità sul binomio contrappone la virilità si contrappone alla donna oppure ai lgbtq o comunque a questa realtà che non dovrebbe essere maschile non si sa perché ovviamente perché non è vero che queste realtà non possono essere però sai si crea questa polarità inutile che poi è la stessa polarità che cerca di intromettere dughi no? sì Putin esatto la stessa polarità allora vogliono cercare quello che contraddistingue questi queste queste correnti diciamo no ma guarda sono proprio allora sono dei degenerati ok? sono dei cadaveri io li chiamerei anzi li ho chiamati in realtà dei rigurgiti del novecento proprio con questa parola dispregiativa perché se lo meriti perché di fatti ci stanno facendo rivivere tutto quello che doveva essere già superato prima perché di fatto lo è stato però ce lo fanno rivivere ci riportano ancora addosso quel secolo lì e noi siamo sì perché poi io mi domando senza andare troppo negli autobiografismi perché nell'ultima puntata forse mi sono lasciato troppo andare però io sono certo che se una persona occidentale di oggi dovesse veramente rivivere un uomo maschio dovesse veramente rivivere una dimensione tradizionale come quella che era all'Italia degli anni 50 o degli anni 30 divorzio all'italiana quel mondo lì non starebbe bene non puoi più tornare indietro io l'ho provato recentemente anche a vivere qualche ora da maschio che non si alza neanche a lavare i piatti dopo che il pater familias esatto sono fuggito nonostante provenga da un periodo della mia vita in cui ho dovuto vivere con un femminile che mi ha molto criticato e pungolato verso spingendomi verso una prospettiva più progressista usando questa parola brutta e magari insultandomi spesso dicendo ma tu sei oramai non si fa più così tu sei all'antica eccetera e quindi per reazione sono andato dall'altra parte però quando sono andato dall'altra parte non stavo bene neanche lì quindi ci sta questo revanche torniamo alla società tradizionale questa società degenerata provalo prima vedi se stai bene è impossibile perché se tu ti collochi in una posizione che non è quella dello zeitgeist non puoi non puoi star bene o stai bene ma non sei cosciente completamente ti convinci di star bene cioè è impossibile non è sano no ma infatti ma anche nell'antichità la virilità antica superava questa situazione la figura dell'eroe non era una figura diciamo solo maschile gli eroi antichi sono allora se volessimo usare un criterio diciamo sessuale diremmo sono pan bisessuali nel senso ma non soltanto diciamo nel loro modo d'essere ma proprio anche nella loro costituzione non incarnano l'uomo maschio punto sono sempre aperti ad altre ad altre altri modi di esistenza ma certo cioè scusa io cito sempre Cruciani no che nella zanzara che lui fa un po' la parte e lo è in parte la fa la esagera del maschio un po' come dire conservatore dal punto di vista politico conservatore adesso mi bestemmierebbe però insomma politicamente si schiera sempre contro quello che viene definito mainstream politica ricorrete però poi quando arrivano delle telefonate di persone che parlano appunto delle perversioni tra virgolette sessuali quindi è sempre a favore ma se lo dico se uno lo vuole prendere nel culo ma perché non può prendere nel culo cioè ma che ci avete contro uno quando chiamano gli anti gay ma tu e poi gli fa capire tu sei più gay di quelli che vuoi combattere perché se hai questa antitesi se vivi questa antitesi costante contro gay c'hai sempre in testa sto gay è perché tu lo vuoi prendere nel culo ma non l'hai ancora messo a te stesso e capisci quello è il punto di vista secondo me no scusa se no no figurati è un questo è il il modo in cui diciamolo si vive oggi sul piano proprio prosaico esatto no ma è vero perché poi ecco quando mancano questi questi spazi più ampi tutto si riduce poi al ah quello è gay quello no bla 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 esatto la la transessualità per esempio oppure la queerness sono sempre state la prerogativa dei di persone fuori dall'ordinario che venivano riconosciute come tali ma non nel senso che dovevano essere nel senso che erano più di una sola esistenza quindi rientravano di fatto nel mondo più sacro allora che so tra i popoli delle grandi pianure lo so questa è una cosa molto stereotipata che molte molte persone ripetono però alcuni popoli delle grandi pianure in in america parlano di due spiriti cioè sono quelle persone che incarnano sia gli aspetti diciamo più mascolini sia quelli più femminili di fatto poi sono androgini ok oppure mi ricordo questa è una cosa meravigliosa in perù anticamente c'era questa usanza di proprio delle civiltà mesoamericane non mi ricordo esattamente la civiltà qual era comunque c'era questa usanza di avere dei mercati che potevano a cui potevi fare le compre solo da uomo ed altri che potevano fare le compre solo le donne i sciamani facevano le compre da tutte e due per questo motivo qua allora io credo che la comunità lgbtq cada un po' nel tranello se continua a mantenersi nella polarità del continuiamo a restare al livello della realtà organica infatti una delle cose che mi interessa fare è portare tutto questo discorso a un livello mitologico perché quando vai in una sfera più ampia la sfera delle ninfe dei satiri la sfera allora vedi che le cose diventano molto più ampie il la stessa cosa vale per gli uomini se la mascolinità viene definita come opposizione a qualcosa è un casiccio crolla su se stessa ed è anche vero che non puoi ritornare all'immaginario di questi ultimi 2000 anni ma devi andare molto più indietro al massimo e anche lì più indietro devi rompere il falso mito dell'uomo cacciatore sai quelle cose lì perché almeno in in Europa cioè non c'è questa che cosa puoi fare poi hai l'immaginario monarchico hai il monaco hai il guerriero il cavaliere hai tutte queste immagini no che magari ti possono aiutare già quando arrivi all'antichità con gli spartani o gli opliti che erano amanti e quindi è vero cioè o anche i lottatori nel Colosseo no esatto infatti i cruciani li cita sempre ma voi siete fascisti adorate avete questo immaginario romano ma tutti quelli che lottavano al Colosseo avevano l'amichetto tra l'altro bambino un ragazzino col quale facevano sesso capite cioè siete proprio fuori da vabbè se parliamo proprio di fascisti allora loro hanno sono i più posseduti dei posseduti non non riescono proprio a vivono male questa cosa la la sopprimono perché da un lato è ovviamente non tutti è chiaro però la sopprimono perché da un lato e non la vogliono riconoscere perché da un lato ne hanno un timore enorme e ci sta bene perché l'eros fa paura l'eros è distruttivo così come generativo è una forza immane è una deità enorme molto spesso si parla di Afrodite come se fosse una sciocchezza no? la classica dell'amore basta no 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 Afrodite si rifà poi a Ishtar si rifà in Anna è una deità che non è soltanto amorevole anche se ti chiama all'amore all'amore sacro ovviamente ma è una deità che ti ammazza allo stesso tempo perché riunisce in sé sia l'aspetto più erotico nel senso di relazionale sia in quello distruttivo e per questo motivo però è qualcosa a cui in un modo o nell'altro devi essere introdotto mancano molte per ritornare al discorso di prima io conosco molto bene diciamo questi profili molti che poi sono di estrema destra o fascisti hanno bisogno di riti di iniziazione sono persone particolarmente dipendenti dal rito di iniziazione e giustamente poi dicono questa diciamo è una cosa che gli è dovuta ma perché la riconosciamo giustamente dicono non si sentono diciamo se stessi e quindi devono per forza fare affidamento su un culto una setta anzi collettiva perché di fatti quello sono diventati poi la destra pure oggi come partito politico non è più di destra sta diventando una setta è anche una delle cose più tremende che bisogna riconoscere è che i conservatori oggi sono i più suscettibili a queste possessioni proprio perché non essendoci più riferimento di qualcosa che va oltre l'unica via che ti è rimasta è quella di chiuderti e affossarti su di te e lo fai involontariamente anche l'ossessione per esempio per i provita per il feto feticizzano il feto che è una cosa assurda ci mettono le immaginette hai capito perché perché è l'unica immagine organica perché non si rifanno neanche più alla cosmologia del dio avresti potuto benissimo riprendere tutta la cosmologia dei cerchi zodiacali delle sfere celesti tutta la cosmologia neoplatonica che è perfettamente coerente ma non la riprendono più perché ovviamente non esiste più quella sensibilità è decaduta è stata completamente rovesciata nella nella materia l'unica immagine che gli può offrire quella certezza quella anche immunità se vogliamo quella cosmografia è l'immagine del feto chiuso all'interno della dea madre che è completamente conchiuso in se stesso perché non riescono ad affrontare i processi della vita non ce la fanno sono completamente impauriti dal dal divenire dalla morte che anzi più della morte dal dal ciclo di vita morte dall'impermanenza ok non ce l'hanno questa cosa perché giustamente il cristianesimo non se ne cura al cristianesimo non interessa l'impermanenza al cristianesimo interessa per fatto il discorso di prima del del cristo interessa l'assolutizzazione della presenza perché il cristo stesso è stato assolutizzato nella sua presenza nel momento in cui ha cercato di incorporare il dio unico ma nel momento in cui perché altrimenti sai che cosa sarebbe successo sarebbe successo che dopo un facciamo stimiamo 800 mille anni al posto del cristo sarebbe venuta un'altra figura perché perché il cristo è una figura sciamanica nell'ambito ebraico quindi ha un altro nome è chiaro allora una cosa che dico sempre la parola sciamano questa è una ricerca in atto ovviamente la parola sciamano bisogna pure toglierla di mezzo perché tutte queste parole servono a nominare qualcosa che l'occidente è perduto e non riesce più a nominare se non le sappiamo più nominare è chiaro che non le sappiamo più riconoscere ma se non le riconosciamo c'è bisogno di qualcuno che aiuti a riconoscere ed è il lavoro che stiamo facendo perché quando si ha una certa sensibilità la prima cosa non è dire me la vivo io la prima cosa è doniamola perché c'è un bisogno di rigenerazione collettiva di questo linguaggio di queste immagini c'è un bisogno assoluto anche per questo diciamo il crisomallo rientra poi all'interno di tutti quelli belli tutti gli altri belli per esempio della collana ma non solo tutte le opere che stiamo portando avanti noi tutti fanno parte di questo discorso qui è chiaro che ci vuole un po' di tempo perché a parte tutte le difficoltà del caso del settore tutto il resto però ci vuole un po' di tempo anche proprio per fare in modo che queste cose vengano assorbite noi speriamo che con il bazar di aver contribuito no c'è un treno che ti aspetta ok siamo già arrivati proprio anche se perfetto abbiamo fatto tre ore siamo quasi a tre ore sì il crisomallo è questo libro che non si può comprare che io ho tiè e che comunque che vendi al mercato nero a cifre che comunque è reperibile online e tutto voglio andare qualche riferimento per chi volesse proseguire questo assolutamente sì allora c'è un libro ci sono alcuni libri uno è leggenza di Stefano Riccesi leggetelo Stefano Riccesi è un caro fratello che porta avanti l'Accademia di Naturospagia e è un è un filosofo medico nel senso più puro del termine perché lui ha introiettato cioè non ha introiettato ha unito ah ce l'ho ce l'ho a casa me l'ha me l'ha consigliato Adriano mi sa perfetto Adriano lui esatto poi questo per l'ambito dell'immaginazione poi ci sta il libro azzurro di Pierpaolo e Veronica e quello credo che si trovi Suezzi perché è un progetto che stanno portando avanti loro caspita Suezzi originale sì 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 ma perché vedi allora anche per brevemente per fare la discorso l'unione di uomo e donna è un modo essenzialmente di rigenerare la sapienza ebraica nel loro caso il maestro Akiba ecco come si chiama perdonami Pierpaolo però maestro Akiba rigenerare la sapienza ebraica anche in questo senso un po' anche il discorso e faceva Moshidel o Idel non ricordo la pronuncia però con Eros e Kabbal e poi beh tutti gli altri livelli volatili direi tra l'altro nel sito il libro azzurro in fondo c'è un un link con scritto Bazar ah perfetto vedi che tutto torna abbiamo chiuso il cerchio esatto e Alessandro noi ti ringraziamo è stato un viaggio sicuramente complesso sicuramente molto sfaccettato che mi porterà a rivedere la puntata perché di sicuro hai citato talmente tante cose che io qua ho la tab di internet che esplode cioè la piena di tab che mi sono appuntato tutte le cose che hai detto ti ringraziamo grazie a voi ma sai ti è piaciuto? assolutamente ma ci sono tante sto scrivendo altre cose quindi probabilmente ci vogliamo ah certo noi ogni anno siamo qua e buon viaggio e di ritorno a Napoli grazie a voi ciao Alessandro ciao questo è il Bazar Atomico ciao